Benvenuti a questo video tutorial sul gioco Warfare Modern Tactical Combat. Il video sarà un po' lungo però su YouTube potrete saltare e andare direttamente alle sezioni che più vi interessano. Iniziamo subito con le componenti del gioco, in particolare con le tessere. Le tessere sono queste mappette rettangolari e che possono essere componibili quindi potete comporle a seconda delle vostre necessità o a seconda di quello che lo scenario vi indica in modo da creare una mappa più grande e il terreno di gioco. Le pedine che rappresentano unità sono i due tipi, possono essere verticali come questa per esempio, rappresentano quelle verticali, unità di fanteria di vari generi e elicotteri anche come questo e poi unità che sono invece peline che sono invece orizzontali come questa e rappresentano veicoli di vario tipo, in questo caso è una tecnica ma potrebbe essere un veicolo corazzato come per esempio questo o un camion. Una cosa fondamentale, una componente fondamentale del gioco è la cosiddetta action track che è questa tabella che è divisa in realtà in due parti. Una parte che serve per indicare il passaggio da un turno all'altro quindi abbiamo un cubetto che si mette all'inizio del gioco, quindi al turno 1 e che poi successivamente col passare del tempo si sposta dal turno 1 al turno 2 al turno 3 e tutti quelli successivi. E poi la vera e propria action track che è questa parte qui dove ci sono queste caselle con i numeri in grigio che è un po' il cuore pulsante del gioco. Come funziona? Fondamentalmente ogni giocatore avrà una fazione abbinata a un colore, in questo caso abbiamo tipicamente il colore blu per gli occidentali e in questo caso gli americani e il colore verde per quelli che noi abbiamo chiamato, la fazione che noi abbiamo chiamato di irregolari che rappresentano milizie di vario tipo o ribelli o al-Qaeda a seconda dello scenario. Questa è una situazione tipo in cui una delle fazioni inizia in vantaggio cioè con il maggior numero di AP che sono i punti attivazioni che vengono usate nel gioco per fare varie attività con il maggior numero di punti attivazione e quindi è la fazione attiva, cosiddetta attiva, cioè quella che correntemente può svolgere varie azioni da combattere, a muovere, a fare test e via dicendo. Quindi in questo caso la fazione attiva sarebbe quella blu, cioè quella americana, mentre la fazione reattiva, cioè quella che attualmente non ha l'iniziativa, è quella verde perché ha meno punti azioni, quindi ha 38 contro 40. Di solito gli scenari iniziano così, con una fazione in vantaggio. Potrebbe capitare in alcuni scenari che le fazioni sono in parità, per esempio hanno tutte e due 40 punti, in quel caso di solito lo scenario che vi dice quale delle due o più fazioni è quella attiva e quindi quale è quella che deve iniziare, che ha l'iniziativa. Ma come funziona l'iniziativa? Fondamentalmente abbiamo visto che il giocatore, la fazione che ha più punti in quel momento è quella attiva, quindi è quella che può svolgere varie attività di gioco. Man mano che questa fazione attiva, in questo caso la blu, svolge queste attività, spende punti e ad un certo punto arriverà a sorpassare il cubetto dell'attività, della fazione avversaria, in questo caso la verde. Quando un giocatore si sposta sull'action track e supera il cubetto dell'avversario, diventa il giocatore reattivo, cioè non può più a quel punto muovere o combattere, ma toccherà all'avversario, che avrà in quel momento più punti attivazione, toccherà all'avversario diventare la fazione attiva, il giocatore attivo e quindi muovere o combattere o fare tutte quelle azioni che vuole fare. Quindi questo alternarsi delle fazioni da attiva a reattiva, da attiva a reattiva, continua lungo tutta l'action track che ha questo andamento un po' a zig zag a serpente, fin quando entrambi le fazioni non superano il numero 40, la casella 40. In quel caso un nuovo turno inizia e si sposta, il cubetto del turno si sposta al turno successivo, in questo caso al turno 2. E' importante questo perché nel cambio di turno, appena il turno cambia avvengono determinate cose in automatico, per esempio tutte le unità che hanno un danno morale recuperano un livello di danno morale. E' questo funzionamento in soldoni della action track. Ora andiamo a vedere gli altri componenti del gioco. Un'altra componente molto importante è la console dei dadi. La console dei dadi, come vedete, ha parecchie informazioni. In alto, sopra i dadi, avete praticamente il numero di risultati che sono presenti sulle facce di quel dato specifico. Per esempio, il dato bianco ha una faccia con questo tipo di risultati, un'altra faccia con questo altro tipo di risultati e quattro facce con questo risultato che sarebbe, non c'è nessun simbolo, quindi sarebbe nulla di fatto. Sotto ogni dato avete il colore, quindi bianco, rosa, grigio, via dicendo, e sotto al colore avete il costo di quel dato in termini di AP, cioè di punti di attivazione. In questo caso il dato bianco, che è quello, diciamo, meno efficace, avrà un costo basso, quindi un AP, ma se io mi sposto man mano a destra avrò dadi sempre più efficaci fino ad arrivare al nero, che è quello più letale di tutti, però è anche quello più costoso perché costa nove punti e attivazione. Notate bene che i simboli sui dadi sono in realtà due di solito per faccia, ma vengono usati per due cose differenti. Il simbolo tendenzialmente più grande che avete in alto a destra è il simbolo che dovete controllare se state effettuando un combattimento a fuoco. Il simbolo che avete in basso a sinistra è un simbolo che viene usato per i test. Durante il gioco si possono fare vari test per vedere se le unità riescono a fare determinate cose, dall'assalto al vedere se si riescono a sminare degli esagoni con le mine e via dicendo. Quindi tenete ben presente che sono due risultati diversi. Ora andiamo a vedere i segnalini. Eccoli qua, ci sono vari segnalini. Questi neri sono quelli che noi chiamiamo situazionali. in particolare abbiamo il segnalino del blocco stradale, il segnalino delle mine, il segnalino degli IED che sono dei dispositivi, degli esplosivi improvvisati. Abbiamo il segnalino dei civili che hanno due facce. Da questa parte sono civili pacifici, ma se io giro il segnalino ho una folla ostile. Poi abbiamo il segnalino del fumo, dei fumogeni, il segnalino delle macerie e questo segnalino particolare che è un dummy, cioè in realtà è un segnalino finto perché molti di questi segnalini vengono piazzati sul gioco da questa parte, cioè hanno questo punto interrogativo. Questo perché l'avversario non sa cosa c'è sotto, quindi potrebbe esserci delle mine, potrebbe esserci un IED, potrebbe esserci un posto di blocco, oppure potrebbe esserci, come in questo caso un segnalino finto, un dummy, che serve per confondere l'avversario. Più su abbiamo invece dei segnalini che rappresentano gli assetti che il giocatore può avere a seconda dello scenario che lo aiutano nel gioco a conseguire il suo obiettivo sul campo di battaglia. In particolare abbiamo in questo caso uno sniper italiano, quindi un cecchino italiano. Abbiamo un aereo che fornisce la CAS, cioè fornisce il supporto al suolo, alle truppe di terra, in questo caso ho un a10, ma se io giro ho un altro tipo di aereo che è un aV8. Poi abbiamo un'artiglieria, l'artiglieria può essere pesante, 155 mm, oppure, girando, posso avere l'artiglieria più leggera che sono mortali di 81 mm. Poi abbiamo questi due segnalini che sono molto importanti perché indicano fondamentalmente se un'unità ha dei danni o meno. I danni possono essere i fisici, e questo è il segnalino dei danni fisici, che rappresenta due livelli di danno, un danno, oppure, dall'altra parte, due danni fisici, e questo giallo rappresenta i danni morali. Anche questi danni hanno due livelli di gravità. Poi il primo livello è questo, ed è il livello scosso, oppure il secondo livello è il livello shaken, cioè il livello soppresso. Ora vediamo i player aid, cioè gli aiuti al giocatore. Questi player aid sono molto importanti, sono molto facili da utilizzare, io consiglio sempre di utilizzare il più possibile perché sono fatti molto bene e contengono un po' tutte le informazioni che ci servono, soprattutto relative ai test. Ai test, come in questo caso, o se io giro, farò l'altro player aid che mi dà le informazioni sul terreno. Poi vedremo nel movimento come funziona, ma contengono informazioni importanti che posso controllare molto più velocemente rispetto al manuale di gioco sul terreno e sulla loss, che poi vedremo cos'è e come funziona. Andiamo a vedere in particolare come funzionano le informazioni che io ho sulle unità, sulle le informazioni che io ho sulle unità. Questa è la disposizione ideale quando si gioca contro un avversario in carne ed ossa. Perché? Perché io vedo, in questo caso io sarei il giocatore che ha i verdi, quindi gli irregolari, io posso vedere tutte le informazioni relative alle mie unità, mentre non vedo quelle relative all'avversario, che in questo caso è l'americano. A sua volta l'americano ovviamente avrà tutte le informazioni relative alla sua fazione, alle unità della sua fazione, ma non potrà vedere le informazioni relative all'avversario che è l'irregolare. Questo fornisce una fogo war blanda che rende le cose un po' più difficili per il giocatore. Ma veniamo alle informazioni che ho sulla pedina. Allora, prendiamo una classica unità di fanteria. La prima informazione che ho è la nazionalità, in questo caso è US, quindi americani. Poi ho il tipo di unità, in questo caso in marine. Poi ho questo call sign sotto l'identificazione dell'unità che identifica quella particolare squadra, in questo caso è white, quindi la squadra white. Poi ho ovviamente la bandiera che identifica la nazionalità dell'unità, in questo caso ovviamente ho la bandiera americana, ma se io vado su le unità degli irregolari, cioè i verdi, vedete che non essendo una particolare nazionalità avrò INS, che sta per insurgent, irregolari, il tipo di unità che fanteria, il call sign, in questo caso ACAB, e come bandiera una bandiera che abbiamo inventato noi, che rappresenta un po' tutte le unità irregolari. Andando invece a questi valori che sono molto importanti, vedete che ho due colonne di valori. La prima a sinistra è quella relativa alle armi leggere, la seconda a destra è quella relativa alle armi pesanti. Durante il gioco, la maggior parte delle volte, io posso scegliere se usare le armi leggeri o le armi pesanti, alle volte invece sono obbligato usare una delle due, per esempio se devo attaccare un veicolo, corazzato o meno, obbligatoriamente devo utilizzare la colonna di destra delle armi pesanti. Ma veniamo ai numeri. Il primo numero in alto è il numero che mi dice quanti AP, quanti punti di attivazione mi costa utilizzare quell'arma. In questo caso se voglio usare le armi leggere, colonna a sinistra, dovrò pagare 5 AP sull'action track. Il numero sotto il primo numero è un numero che mi indica il raggio d'azione, cioè fino a qual è la massima distanza alla quale posso utilizzare questo tipo di arma, in questo caso 3, 3 esagoni. Quindi se voglio usare queste armi leggere, posso usarle fino a un massimo di 3 esagoni di distanza. Quindi per esempio se io volessi usare le armi leggeri di questa unità, anche qui ho 3 di raggio, potrei sparare a questa unità che ha 2, quindi all'interno del mio raggio d'azione ho anche questa unità e potrei in teoria sparare anche a questa che è entro 3 esagoni, ok? 1, 2, 3. Se questa unità fosse più lontana, questa unità fosse più lontana, fosse qui per esempio, non potrei più spararli. Quindi tornando al raggio d'azione abbiamo detto che il raggio d'azione è il secondo numero, 3 in questo caso, e poi c'è un colore. Il colore è molto importante perché mi dice il colore del dato base che io devo usare per controllare se riesco a fare danni e quali danni riesco a fare all'unità avversaria. Quindi in questo caso mi dice il tuo colore base è il giallo, quindi andando sulla console dei dati io avrò il giallo come colore base, perché si chiama colore del dato base? Perché questo dato base può in realtà poi cambiare in realtà a seconda dei modificatori, io potrei avere vari modificatori dovuti al terreno o altri elementi che mi fanno cambiare il dado e quindi mi dicono che non posso usare in realtà il giallo ma devo usare invece per esempio il verde o il grigio o se ho dei modificatori a mio favore addirittura dei dati più efficaci come il rosso o il blu a seconda di quella che è la situazione. Sotto il valore del dato base e del raggio d'azione potrei avere un'iconcina. L'iconcina mi indica o un'azione speciale o un'abilità speciale che io posso avere, che quell'unità specifica può avere, quindi una cosa particolare, un'azione particolare o un'abilità speciale che quella unità può compiere. Ora c'è da fare un distinguo importante fra azione speciale e abilità speciale. Allora in questo caso io ho un'azione speciale. L'azione speciale ha un simbolo colorato che mi dice che tipo di dato devo utilizzare per poter provare a portare a termine quella azione speciale ed ha un costo che è dato appunto dal colore del simbolino che io ho, in questo caso il giallo, quindi mi dice che se io voglio tentare di portare a termine quella azione speciale, che in questo caso è la soppressione, dovrò pagare il costo di un dado giallo. Il costo del dado giallo, andando alla console, è di 5 AP, quindi dovrò pagare 5 AP per provare a portare a termine quella azione speciale. Per quanto riguarda invece l'abilità speciale, l'abilità speciale ha sempre questo tipo di cornice che è un pentagono rovesciato, che mi dice che è un'abilità speciale e non un'azione speciale, che significa che io non spenderò un montare di AP, di punti azioni relativi al colore che io potrei avere, come in questo caso, nel caso dell'azione speciale, ma ho un costo fisso di un AP. Quindi le abilità speciali spendono un costo fisso di un AP e sono indicate da questo pentagono rovesciato. Le azioni speciali invece hanno un costo che dipende dal colore del simbolo che io ho qui e quindi non è fisso e appunto hanno un simbolo colorato. Questa è la differenza fra abilità speciali e azioni speciali. Per quanto riguarda la seconda colonna funziona nello stesso identico modo, la colonna delle armi pesanti, quindi il primo numero è il costo in AP, in punti azione dell'uso di quell'arma, il secondo numero è il raggio d'azione, il colore è il colore del dato base che dovrò usare, in questo caso il grigio. Sotto ho invece che azioni speciali o abilità speciali, ho questo scudetto, questo numero compreso nello scudetto, che è la difesa intrinseca di quell'unità. Questo significa che se sparano a questa unità, l'unità potrebbe avere un modificatore positivo, in questo caso nullo, o negativo. Di solito io ho un modificatore, eccolo qua, positivo per l'unità che si difende, perché? Perché mi sposta il dato di chi sta sparando a sinistra, quindi gli dà un dato più sfavorevole, meno efficace, infatti qua vedete che c'è la freccetta che mi dice, devi spostare il dato base, che è quello giallo, di una posizione a sinistra. Io vado sulla mia console dei dati, dovrei usare come dato base giallo e invece, siccome mi dice che il mio avversario è un modificatore in difesa di uno spostamento a sinistra, dovrò usare il dato verde, quindi dovrò usare un dato meno efficace quando andrò poi a vedere il risultato del combattimento che dovrò svolgere. Questi sono tutti gli indicatori che vi serve conoscere per poter giocare. Io consiglio di, soprattutto se siete all'inizio delle prime armi, di considerare il movimento come un'azione da un punto e quindi quando vi muovete di dichiarare casella per casella, quindi punto per punto, il vostro movimento. Quindi se dovete utilizzare 6 AP per un movimento di non spostare subito il cubetto 6 caselle dopo, perché questo potrebbe creare un po' di confusione. anche perché, a differenza del movimento, con il movimento appena voi superate il cubetto avversario, come in questo caso, vi dovete fermare. Ma con la stragrande maggioranza delle altre azioni, soprattutto quelle molto costose, può capitare che voi spendiate molto di più in termini di AP e che quindi il vostro cubetto, che all'inizio era in vantaggio, cioè era prima del cubetto avversario, vado a finire molto più in là rispetto al cubetto, no? Per esempio facciamo conto che io sia qui nel 39 e sparo con un'arma particolarmente costosa che mi può costare 6 AP, allora in questo caso io andrò a finire 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui, ok? Mi dovrò fermare, perché mi dovrò fermare, perché sono comunque al di là del cubetto avversario. Però come vedete non sto più subito dopo il cubetto avversario, come nel caso del movimento, sono molto più in là, no? E farò comunque la mia azione, se sto sparando, sparerò, se sto facendo un assalto, assalterò, tranquillamente la porterò alla sua conclusione, dopodiché toccherà al mio avversario che è diventato il giocatore attivo, il giocatore che ha l'iniziativa, muovere o sparare, farò quello che vuole. Una cosa importante è ricordarsi che a differenza di molti altri giochi. In questo gioco, in Warfare, torno alla mappa, in Warfare io posso combinare praticamente come voglio, movimento, combattimento, azioni, abilità speciali, unità sul terreno, fin tanto che ho abbastanza AP per farlo prima di superare il cubetto del mio avversario. Quindi posso combinarli come voglio, potrei, in questo caso, quanti AP ho? Ho, ecco, ero blu, stavo a 40, quindi ho 1, 2, 3, 4, 5 AP prima di passare la palla al mio avversario. Questi 5 AP io posso tranquillamente decidere di utilizzarli in vario modo. Per esempio, potrei muovere quest'unità di 1, muovere quest'altra unità di 2, S1 a 3, sparare, adesso non posso sparare qua, però mettiamo il caso che io fossi nel raggio di un avversario, potessi sparare con questo, per esempio, potrei sparare con questo, oppure potrei muovere soltanto di 6 AP con un'unità, oppure potrei sparare con varie unità, insomma posso combinarle un po' come voglio. E anche a livello dell'ordine delle azioni posso mischiarle come voglio, cioè potrei muovere con questo prima, poi muovere con quest'altro, poi rimuovere con questo, poi sparare con quest'altro, quindi posso veramente una grande, grande libertà di azione nel fare, insomma, quello che mi serve sulla mappa. Ora, tornando al movimento, alla nostra unità, qui, poniamo il caso che io voglia muoverla, e qui, questo esagono qui, quindi io vado a controllare che tipo di esagono è questo e quali proprietà ha nella table chart, cioè nella tabella del terreno, che è uno degli ausili al giocatore, in questo caso, eccola qua. Qui ho il tipo di terreno, vedete, cover, cioè di copertura, oppure potrei avere terreno fortificazione, in questo caso io ho il terreno di copertura, lo posso, lo distingo dagli altri perché? Perché al centro il terreno di copertura ha sempre un pallino bianco, per individuarlo. E qui ho le varie informazioni che mi servono. Per esempio, so che questo tipo di terreno blocca la line of sight, cioè la visuale verso i miei eventuali obiettivi, poi ne parleremo più avanti. So che a livello di altezza e livello 1, so che ha un modificatore, se un'unità viene attaccata e si trova in questo tipo di terreno, ha un modificatore di un dado a sinistra, quindi favorisce ovviamente il difensore. So che, e questa è l'informazione che mi serviva, che se questo terreno viene, diciamo, c'entra una fanteria, Infantry, mi costerà un AP, un punto azione, quindi un punto azione per ogni esagono di terreno di copertura. Viceversa per i veicoli, vedete che costa di più, costa 2 AP, 2 AP per esagono, mentre gli elicotteri costa 1 AP per 4 esagono, quindi con un punto azione un elicottero può fare 4 esagono di questo tipo, mentre la fanteria ne fa soltanto 1. A questo punto so che la mia fanteria per entrare in questo esagono deve spendere un solo AP. Ok, quindi muovo, vado a togliere il mio AP dal mio ammontare di AP qui sull'action track, quindi da 40 vado a 39, a questo punto posso decidere se continuare a muovere con la stessa unità, se eventualmente sparare con qualche altra unità che si trova in raggio e riesce a vedere, quindi ha nella loss il proprio avversario, oppure se muovere con un'altra unità. Diciamo che io voglio muovere con un'altra unità, muovo con un'altra unità, decido di muovere il corazzato che si trova nel boschetto, anche esso in questo caso è un esagono di copertura, vedete c'è il pallino bianco, e decido di muoverla, di 4 esagoni, voglio portarla qui, utilizzando la strada. Ok, allora vado qui, che come potete vedere è un terreno clear, cioè è un terreno che non ha nessun tipo di malus, non ha ostacoli, quindi costa poco, andiamo a vedere sulla chart quanto può costare. Ecco, terreno clear, tipo clear, vedete non c'è nessun pallino, nessun simbolo al centro, costa 1 AP per la fanteria e 1 AP per i veicoli, però con 1 AP ne fanno 2 desagoni di questo genere, quindi si muovono più veloci. Allora il nostro è un veicolo, quindi per entrare in questo esagono di clear, spenderà 1 AP, però può farne 2 di questo tipo, quindi se io come in questo caso voglio andare in un altro esagono di clear, come in questo caso, non dovrò spendere niente, perché con 1 AP muovo di 2 esagoni in clear. Quindi 1 AP per questi 2 esagoni, voglio andare qui e spenderò 1 AP perché sto muovendo sempre in clear, ed ho un veicolo. ok? Quindi ho mosso di 4 esagoni, siccome è un veicolo però su clear, mi costa soltanto 2 AP e non 4 AP. Quindi tolgo i miei 2 AP dall'ammontare qui sulla action track, quindi 1 e 2. Posso ancora, sono ancora giocatore in iniziativa, giocatore attivo, perché vedete che sono il mio cubetto è prima di cui l'avversario, e quindi ho ancora a disposizione 1 e 2 AP, prima che il mio avversario diventi a sua volta giocatore in iniziativa e inizi a muovere o a combattere a fare qualsiasi altra azione. 2 AP, posso decidere di tornare a muovere la prima unità che ho mosso all'inizio, di continuare a muovere con questa, o di muovere una terza unità, o di sparare con una terza unità, o con una di queste che già hanno mosso. Diciamo che per adesso voglio soltanto muovere, quindi muovo, decido di muovere questa unità, la muovo, voglio muoverla qui, in cover, quindi so che l'unità di fanteria come questa, in clear, in questo tipo di terreno, spendono 1 AP, quindi 1 AP. In questo tipo di terreno che è di copertura, la fanteria spende sempre solo 1 AP, e ho speso 2 AP, quindi sulla action track farò 1 e 2. Attenzione, a questo punto io ho superato il cubetto del mio avversario, quindi non sono più giocatore che all'iniziativa, giocatore attivo, quindi mi devo fermare, concludo l'azione per la quale ho pagato, qualsiasi essa sia, dopodiché toccherà al mio avversario, al verde in questo caso muovere o combattere o fare qualsiasi altra azione. Quindi a questo punto io ho mosso, ho concluso le mie azioni, non posso fare più nient'altro e toccherà al mio avversario, cioè in questo caso al verde. Il verde potrà a sua volta combinare in qualsiasi modo azioni di movimento, di combattimento, assalti, nell'ordine e nel modo che desidera, fintanto che è giocatore in iniziativa, giocatore attivo, cioè quello a cui tocca muovere. In alcuni scenari potreste trovare le due fazioni che partono con la stessa quantità di AP. In quel caso è lo scenario che vi dice quale fazione muove per prima, qual è quella che ha l'iniziativa. Ma vediamo di parlare di un argomento che potrebbe generare un po' di confusione nel giocatore, la differenza fra azione e abilità speciale. Abbiamo visto che molte unità hanno questi simbolini in basso a sinistra. Ora, se il simbolino è contornato da questa specie di pentagono rovesciato, siamo di fronte a un'abilità speciale. Abilità speciale che significa che tu per utilizzare quell'abilità, in questo caso l'abilità è quella di non essere visto dal nemico, tu devi pagare un costo fisso di un AP. Quindi l'unità che ha questo tipo di abilità speciale spende un AP e la utilizza. Per quanto riguarda invece l'azione, l'azione ha sempre un colore, cioè il simbolo che indica quest'azione speciale ha sempre un colore come in questo caso. Perché? Perché in questo caso, nel caso delle azioni speciali, non è come l'abilità speciale che tu hai un costo fisso, bensì tu paghi a seconda del colore, del simbolo di quella azione che tu stai cercando di intraprendere. Quindi in questo caso tu non paghi uno fisso, ma paghi l'equivalente del costo del dato giallo. Ed è il dato base che tu userai per vedere se riesci a fare quell'azione. Quindi mentre nel caso delle abilità speciali tu hai un costo fisso e il risultato è certo, cioè tu riesci sicuramente a fare quella cosa che l'abilità speciale ti permette di fare, nel caso dell'azione non è detto che tu ci riesca. Tu fai un tentativo, fai un test per vedere se riesci a fare quella determinata cosa e vedi il risultato. Per esempio andiamo a vedere sulla chart, sul chart, sul pay raid. Ecco qui. Io qui ho tutti i test che posso fare per ogni tipo di azione nel gioco. Per esempio in quel caso era un'icona di soppressione, fuoco di soppressione. Eccolo qua, soppresso in fire. Vedete, riconoscete l'iconcina della freccia in basso che era gialla, quindi questo significa che io parto per fare questo test con un colore di dato giallo. andando alla console dei dadi, vedete che i dadi, abbiamo visto che hanno vari, possono avere vari risultati a seconda della faccia che esce quando io ho tirato, no? Ora il simbolo, quello diciamo centrale, quello più grande, per esempio in questo caso nel caso del, no prendiamo il giallo, nel caso del giallo, questo del buco della pallottola è il risultato che io ottengo se sto semplicemente sparando, se sto facendo un combattimento. L'altro simbolino tendenzialmente più piccolo, in basso a sinistra invece, è il risultato che avrò se sto invece facendo un test, uno di questi test di cui vi sto parlando, quindi un test conseguente a un'azione speciale che io voglio intraprendere. Quindi nel caso dell'unità che abbiamo visto che ha questa, può fare, può compiere questa azione speciale del fare fuoco di soppressione, io dovrò tirare il dato giallo come dato di base se non ci sono modificatori e vedere cosa esce. Il risultato però che dovrò ottenere in considerazione non sarà il risultato, il simbolo centrale, cioè quello più grande, quello che riguarda il combattimento, ma il simboletto in basso a sinistra che è quello relativo ai test. Posso avere vari tipi di risultato, posso avere una X che fondamentalmente è un nulla di fatto, posso avere un pollice all'insù, posso avere il doppio pollice all'insù, insomma vari risultati. Poi devo andare a controllare il player aid per vedere ogni risultato che cosa mi, che cosa mi, cosa determina. Per esempio in questo caso, suppressive fire, fuoco di soppressione, se dovesse uscire un solo pollice all'insù, significa che è un successo minore, quindi do un livello di danno morale all'obiettivo, oppure se esce una X oppure niente, cioè la faccia è totalmente vuota, è un fallimento, non c'è nessun effetto. Se escono invece i due pollici all'insù è un successo, quindi faccio due danni morali all'avversario, se esce la stelletta è un grande successo, quindi do un danno morale all'obiettivo e un danno fisico. Quindi questo player aid è fondamentale, molto molto utile per andare a controllare gli effetti del test che io sto portando a termine. Ora per quanto riguarda il movimento che abbiamo visto per sommi capi, teniamo presente che ci sono alcune unità, che sono unità adibite fondamentalmente al trasporto, come per esempio questo veicolo, che hanno questa abilità speciale, anzi in questo caso ne ha due abilità speciali, come possiamo vedere, perché ha due simboli circondati da questo pentagono sottosopra e le due abilità speciali sono a sinistra, dove vedete gli omini, significa che questa unità è un'unità di trasporto, quindi può trasportare una unità di fanteria, ovviamente non veicoli o elicotteri, solo fanteria, un'unità di fanteria, oppure un segnalino di civili pacifici. A destra abbiamo un'altra abilità speciale, che è quella di poter muoversi anche attraverso esagoni di acqua, fiume o mare. In questo caso quello che a noi ci interessa è la capacità che ha questo veicolo di trasportare unità di fanteria, infatti in questo caso vedete che c'è nello stesso esagono un'unità di fanteria che sta trasportando, l'unità di fanteria che vengono trasportate potete scegliere se metterle con l'unità che le trasporta oppure metterle a bordo mappa, basta che vi ricordate chi trasporta cosa, ecco perché è consigliabile mettere nello stesso esagono con l'unità che le sta trasportando. Quindi questa unità sta trasportando questa unità di fanteria per muovere l'unità che trasporta la fanteria come al solito spendo degli AP, essendo un veicolo si muoverà meglio su terreno clear, sgombro, quindi senza ostacoli e invece pagherà di più se si muove in terreni più difficili come questo è un terreno montuoso oppure in mezzo a delle case. L'importante è ricordarsi che spende AP per muovere soltanto l'unità che sta trasportando non l'unità trasportata e che in caso di danni li prende tutti l'unità che trasporta e non l'unità trasportata. Solo se l'unità che trasporta viene eliminata allora anche l'unità trasportata viene eliminata. In tutti gli altri casi di danno morale o fisico l'unità che viene trasportata non subisce danni di alcun tipo. Vediamo però in pratica come funziona il trasporto di un'unità. Facciamo finta che quest'unità di fanteria non sia ancora trasportata dal veicolo. Facciamo finta che la situazione è questa. Cioè abbiamo un veicolo che ha l'abilità di trasporto e un'unità di fanteria adiacente. Perché un veicolo che ha questa abilità di trasportare possa caricare un'unità di fanteria? Un'unità di fanteria deve essere adiacente al veicolo come in questo caso. Inoltre essendo un'abilità speciale il veicolo dovrà spendere un AP fisso per poter caricare l'unità di fanteria. Quindi in questo caso facciamo finta che io sia ancora il giocatore, il blu sia ancora il giocatore di iniziativa. Quindi che è ancora AP disponibile. Spenderò un AP per prelevare la mia unità di fanteria. Eccola qua. Spendo un AP, carico unità di fanteria e a questo punto inizia a muovere. Durante il movimento, in qualsiasi momento, io posso decidere di scaricare l'unità che sto trasportando. Facciamo finta che io mi sposti per esempio, ecco, i due esagoni giù lungo la strada. Quindi spenderò i miei due esagoni sulla action track. Vedete che io sono ancora, sto nello stesso esagono dell'avversario, non l'ho ancora soppassato, quindi posso ancora spendere punti. Sono ancora giocatore di iniziativa. Quindi tornando al nostro, al nostro veicolo. Ecco qua. Tornando al nostro veicolo, io a questo punto spendo un altro AP addizionale per scaricare unità di fanteria e un qualsiasi esagono di quegli adiacenti, basta che sia un esagono in cui ovviamente la fanteria può transitare. E spendo il mio ultimo AP disponibile. A questo punto vedete che io ho meno AP del mio avversario, quindi smetto di fare qualsiasi azione, movimento o combattimento perché tocca al mio avversario che diventa il giocatore che ha l'iniziativa. Quindi questo per quanto riguarda il trasporto. Molto molto semplice. Ora facciamo conoscenza con il primo segnalino del gioco che è quello di civili pacifici, ovvero folla ostile. È praticamente lo stesso segnalino con due facciate diverse. Da una parte, quello che vediamo adesso, è il lato della folla ostile. Se lo giro abbiamo i civili pacifici. Ci sono varie differenze rispetto allo stato dei civili, cioè fra folla ostile e civili pacifici. La prima differenza è che le fazioni regolari, quindi eserciti regolari, esercito americano, inglese, italiano, eccetera, non possono mai sparare a unità nemiche che si trovano all'interno di un esagono che contiene anche un segnalino di civili, sia pacifici che ostili. È uguale. Quindi mettiamo il caso che questa unità irregolare insieme a dei civili, un'unità americana tipo questa non potrà spararmi. Questo è quello che noi chiamiamo uso degli scudi umani, cioè gli irregolari possono fare questo per non farsi sparare delle unità regolari. Mentre il contrario non vale. Cioè se all'interno di questo esagono insieme ai civili io avessi un'unità di un esercito regolare, esercito americano o un altro esercito regolare in gioco, se a sparare è un'unità irregolare, quindi della fazione verde, questa unità può tranquillamente sparare, cioè spara tranquillamente all'interno di esagoni che contengono civili, pacifici o folle ostili. Quindi questo è un vantaggio per l'unità, per la fazione dei verdi. Un'altra differenza è che mentre esagoni con segnalini di civili pacifici possono essere tranquillamente attraversati da qualsiasi tipo di unità o anche una qualsiasi unità posso stare in esagoni contenenti un segnalino di civili pacifici. Se il segnalino invece è di di folle ostile, questo, ci può passare attraverso, posso stare soltanto, un'unità di fazione dei verdi, quindi un'unità di fazione di irregolari, come in questo caso. Unità di fazioni regolari, eserciti regolari, quindi per esempio questa, non possono sostare nel stesso esagono con folle ostile. I segnalini di folle ostile o di civili pacifici possono essere spostati dalle unità, basta che esse siano nello stesso esagono con il segnalino di civili che io voglio portare con me e spendendo un punto azione, un AP aggiuntivo per ogni esagono che io faccio insieme al segnalino di civile ostile o meno. Per esempio se io dovessi muovere con questa unità qui pagherei un AP perché è una fanteria su terreno di copertura, più un AP perché mi porto appresso il segnalino di civili, quindi due AP, poi di nuovo un AP perché mi muovo sul terreno di copertura, è una fanteria, più un AP addizionale perché mi porto appresso il segnalino di civili, quindi molto semplice. Non devo avere un'abilità speciale, non devo pagare per trasportarla come si fa con le unità che vengono trasportate nei veicoli, semplicemente devo partire con il segnalino di civili nello stesso esagono e pagare un AP aggiuntivo per ogni esagono che io faccio. Ora vediamo invece una cosa importante che è l'overwatch, cioè io ho la possibilità durante il gioco di mettere le mie unità in overwatch, cioè praticamente si appostano e aspettano che l'enemico passi nella loro loss line of sight, nel loro visuale per eventualmente attaccarlo. Poi vedremo come si svolge il combattimento, però è importante vedere come funziona questo overwatch e come si attiva. Praticamente io per attivare un overwatch, questa per esempio è un'unità in overwatch, devo spendere un puntazione e metto un cubetto rosso nell'esagono che contiene l'unità che vuole mettersi in overwatch. Quindi spendo il mio AP dall'action track, sono verde quindi spendo un AP e metto il mio cubetto rosso. Da questo momento questa unità è in overwatch. Che significa? Significa che se durante la fase, diciamo, l'attivazione del mio avversario, il mio avversario muove una unità di fanteria o un veicolo nella mia loss, la mia loss praticamente sarebbe la mia line of sight, quindi la mia visuale, quindi io riesco effettivamente a vedere che questa unità si sta muovendo, io ho la possibilità, se voglio, non è obbligatorio, ho la possibilità di reagire a questo movimento avversario sparando alla mia unità nemica. Per esempio facciamo finta che questa unità è qui. Si muove, è la fase ovviamente, è l'attivazione del blu, quindi dell'americano. L'americano spende una AP per entrare in questo esagono. A questo punto io che ho questa unità in overwatch controllo per vedere se riesco effettivamente a vedere, secondo l'aero della loss che vedremo più in là, il mio avversario che si sta muovendo, in questo caso lo vedo, quindi appena si muove io posso decidere adesso oppure più in là, se l'unità continua a muoversi, per esempio magari si deve avvicinare perché io non l'ho in raggio, come in questo caso, quindi aspetto che si avvicini e sempre se nella loss posso decidere di utilizzare l'overwatch e di spararli, quindi tolgo il mio cubetto, effetto un normale combattimento, vedo se l'unità è in raggio, in questo caso io voglio usare le small arms, quindi le armi leggere, questa prima colonna, vedo che è il raggio di 2, 1, 2, sì, è in raggio, la vedo perché è in visuale e quindi nella mia loss, nella mia line of sight e quindi posso volendo sparare seguendo le normali regole del combattimento che vedremo a breve. Ovviamente per poter mettere in overwatch unità io dovevo avere degli action point e devo essere il giocatore che ha l'iniziativa, quindi quando tocca a me se io prevedo che ci saranno dei movimenti del mio avversario vicino unità mie e voglio in qualche modo rendergli la vita difficile, posso mettere queste mie unità, questa o queste mie unità in overwatch spendendo una P per ogni overwatch e mettendo il cubetto rosso. Vediamo adesso un altro tipo di segnalino che è il segnalino di blocco stradale. Qui abbiamo un blocco stradale. Come funziona il blocco stradale? Il blocco stradale praticamente blocca il passaggio di qualsiasi unità, amica o nemica, tranne ovviamente elicotteri, cassa, cassarebbero gli aerei che forniscono supporto a terra. Nel resto di tutti gli altri casi unità non può entrare in un esagono che contenga questo tipo di segnalino. Il segnalino di posto di blocco, come molti segnalini, dall'altro lato del segnalino c'è un punto integrativo, quindi diventa un segnalino di ignoto, perché io all'inizio di uno scenario di solito questo tipo di segnalini sono nascosti, quindi non so cosa ci sia sotto. Ecco perché c'è il punto integrativo. Potrebbe essere un posto di blocco, potrebbe essere una mina, un ID o potrebbe essere un damage, cioè un segnalino fasullo di pericolo finto. In questo caso io ho il mio bel posto di blocco, posso però rimuovere i posti di blocco, posso rimuoverli, qua dipende, se io ho un'unità gioco con una fazione di eserciti regolari, in questo caso per esempio esercito americano, allora ho bisogno di una particolare unità che abbia questo tipo, che abbia questo tipo di, possa fare questo tipo di azione speciale. Vedete in questo caso è un'azione speciale, non un'abilità, perché infatti il simbolo non è racchiuso in un pentagono rovesciato ed ha un colore. Questo perché a differenza delle abilità speciali, le azioni speciali richiedono un costo, il costo è il costo delle armi leggeri, infatti vedete che è giallo come il costo dell'arma leggera in questione. Questo significa che se io voglio provare a rimuovere questo ostacolo, devo fare un test perché devo vedere se ci riesco, e il colore base del dato è il giallo. Quindi in questo caso se io voglio provare a rimuovere questo posto di blocco, tiro il mio dato giallo, vedo il risultato, vediamo un po' sul player aid cosa mi dice, dove ho tutte le azioni, eccolo qui, removing row blocks, quindi rimuovere posti di blocco. A seconda di quello che mi esce, io avrò un risultato ovviamente diverso, quindi se non mi esce nulla, cioè c'è solo il colore, non c'è nessun simbolo, il marker che rimane lì dov'è, e c'è un danno morale per l'unità che cerca di rimuoverlo. Se c'è una X, fallimento, non succede niente, se ci sono uno o due pollici in su è un successo, quindi posso rimuovere il posto di blocco in modo da far passare tranquillamente le mie unità. Se c'è una stella addirittura è un gran successo, successone, elimino il sennellino nel gioco e muovo di un esagono gratis l'unità che ha rimosso il posto di blocco. Questo è per quanto riguarda le fazioni regolari. Per quanto riguarda la fazione degli irregolari, quindi la fazione dei verdi, hanno la possibilità di muovere, cioè di spostare il posto di blocco o di semplicemente rimuoverlo pagando sempre il costo delle small arms. Quindi prendiamo un'unità di irregolari, eccola qua. Facciamo conto che io cerchi di rimuovere questo posto di blocco con i miei irregolari. Io basta che sono adiacente, come nel caso delle unità regolari, però non è più un test, semplicemente pago il costo delle armi leggeri in questo dato verde, quindi pago il costo del dato verde e lo rimuovo tranquillamente, non devo fare nessun test, quindi sono sicuro di rimuoverlo senza fare nessun test. Posso anche spostarlo, quindi farlo comparire su un altro esagono della mappa, qualsiasi, spendendo lo stesso quantitativo di AP di punti attivazione, quindi quelli del dato verde e lo faccio comparire su un qualsiasi altro punto della mappa. Quindi la fazione irregolare, la fazione degli ins con la verde, ha questa particolare capacità di rimuovere e riposizionare i posti di blocco e di farlo semplicemente pagando il costo delle armi leggere di quella particolare unità che sta cercando di farlo. Quindi non è un test e sono sicuro di poterlo fare con successo. Ora vediamo un attimo come funziona il combattimento. Ci sono due tipi fondamentali di combattimento. Uno è quando tu spari in unità avversaria a una certa distanza e l'altra è l'assalto. Prima vediamo il primo tipo di combattimento, quindi quando tu spari a un obiettivo, a un target. Innanzitutto bisogna parlare di una cosa fondamentale che è la loss, cioè la linea di vista, perché ovviamente chi spara deve poter vedere l'obiettivo al quale spara. E la linea di vista o loss simula proprio questo. È praticamente una linea retta che noi dobbiamo tracciare dal centro dell'esagono di chi spara al centro dell'esagono obiettivo. Io ho preparato alcune situazioni in cui possiamo vedere la casistica delle situazioni che si possono verificare in un gioco per quanto riguarda la loss e quindi il combattimento. Abbiamo per esempio qui un'unità americana, un fanto americano, che si trova in un terreno di copertura, lo potete vedere dal pallino bianco qui al centro, e che ha di fronte a sé potenzialmente due differenti obiettivi. Potrebbe voler sparare a questa unità di irregolari oppure a quest'altra. Adesso vediamo se la loss glielo consente, cioè se riesce effettivamente a vedere questi due obiettivi. Nel primo caso, cioè se vuole sparare a questo obiettivo, sicuramente potrà farlo, perché io se traccio una linea retta dal pallino bianco, fra l'altro questi simboli al centro dell'esagono sono utili anche per darci un riferimento, per tracciare all'oss. Quindi se io traccio una linea retta dal centro dell'esagono di chi spara al centro dell'obiettivo, eccolo qui, vedete che la linea retta passa per questo esagono che però è un esagono assolutamente libero, non esagono di copertura, non ci sono ostacoli, quindi la linea passa tranquillamente e quindi la mia unità di americani, di fante americani, potrà tranquillamente, se vuole, sparare a questo obiettivo. Viceversa, non potrà farlo in questo caso, non potrà sparare a quest'altro obiettivo. Perché? Perché anche se la linea, la loss cui, in teoria, in teoria passa per un esagono libero, per un esagono di strada, quindi un esagono libero, vedete che non ci sono infatti simboli al centro, però c'è questa folla ostile, quindi questi civili, che impediscono all'unità di fante americana, che è l'unità di un esercito regolare, di sparare al suo obiettivo qui. Viceversa, l'unità irregolare, quindi questa verde potrebbe sparare all'unità di fanteria, perché bisogna ricordarsi che i segnalini di folla ostile o anche di civili pacifici bloccano la loss, quindi a linea di vista, delle unità regolari, degli eserciti irregolari, quindi statunitensi, italiani, britandici, francesi, eccetera, ma non bloccano quella degli irregolari, che possono invece sparare attraverso. Vediamo altri casi, qui abbiamo per esempio un corazzato, in questo caso il corazzato non può sparare a questa unità, perché la loss passa proprio lungo il bordo di questi due esagoni, mentre questo esagono è libero, quindi non ostacola la loss, la linea di vista, questo esagono, sempre per il motivo di cui sopra, cioè perché c'è un segnalino di civili, l'ostacola, in questa situazione quando la linea di vista passa fra due esagoni adiacenti, uno dei quali in qualche modo la blocca, si considera bloccata, anche se uno dei due invece è libero da qualsiasi ostacolo, quindi in questo caso non potrebbe il cararmato sparare, viceversa potrebbe sparare l'irregolare al cararmato, perché come abbiamo detto prima i segnalini di civili non bloccano la loss degli irregolari, in questo caso userebbe il valore azzurro, perché quello delle armi pesanti, perché sparando un cararmato potrà solo utilizzare l'arma pesante. Poi vedremo in particolare, in dettaglio, come funziona. qua abbiamo un mitreatrice pesante, la mitreatrice pesante potrebbe sparare a questo obiettivo e forse a questo obiettivo, bisogna vedere la loss, la linea di vista dove passa, vediamo un attimo, allora, traccio la linea, traccio la linea, allora la linea passa, passa per la purtroppo il primo esagono davanti all'unità che spara è di copertura, potete vedere il pallino bianco, gli esagoni di copertura bloccano la loss, sono un ostacolo a loss e quindi non potrà sparare a questa petina, a questa unità. Stessa cosa probabilmente per l'altra unità, per questa unità qui dovrebbe essere lo stesso discorso, vediamo. Ecco, è infatti la stessa cosa, sempre per lo stesso motivo, sempre perché c'è in mezzo quell'esagono di terreno di copertura, la loss è bloccata. Cosa può bloccare la loss? Può bloccare la loss ovviamente un ostacolo che può essere o un esagono che contenga un blocco stradale o un fumogeno o anche delle macerie, oppure un esagono, come in questo caso, di copertura. Se sono lo stesso livello dell'unità che spara e dell'unità obiettivo. Nel gioco ci sono tre livelli nel terreno, livello 0, livello 1 e livello 2. Quindi se l'esagono di copertura, per dire, si trova allo stesso livello di chi spara e del suo obiettivo, blocca sicuramente. Se sono livelli diversi le cose si complicano un pochettino, ma voi avete un player aid che vi aiuta a capire come fare in questi casi più complicati, dove sono coinvolti livelli diversi. Qui avete infatti le 5 regole base, vedete l'esempio sia in due dimensioni che in tre dimensioni e i 5 casi fondamentali che si possono verificare se le altezze dell'obiettivo e di chi spara sono diverse. Quindi fate riferimento a questo. Ora vediamo un altro caso. In questo caso, questo anche è un fante americano. Il fante americano ha davanti a sé potenzialmente altri due obiettivi, anzi altri tre obiettivi. Questo, questo e questo. Vediamo però se riesce a vederli. Nel primo caso sicuramente riesce a vedere l'unità nemica perché tutti questi esagoni sono esagoni allo stesso livello e sono tutti liberi. Non ci sono ostacoli, non ci sono terreni di copertura e quindi sicuramente volendo può sparare a questo obiettivo. Questo obiettivo di fronte è ancora meglio, non ci sono ostacoli, stanno allo stesso livello e quindi niente impedisce di vedere l'unità nemica. Per quanto riguarda questo obiettivo, qui sicuramente non può sparare perché? Perché c'è il blocco stradale che è considerato un ostacolo al line of sight, alla linea di vista. E quindi se noi andiamo a tracciare il nostro, ecco qui, se andiamo a tracciare la nostra linea, vedete che passa proprio al centro del blocco stradale. Una cosa importante è, per quanto riguarda la loss, ricordarsi che se chi spara e il suo obiettivo sono adiecenti, quindi in questo caso per esempio, in questo caso, in questo caso, la loss c'è sempre, cioè comunque sia chi spara vede sempre il suo obiettivo, se è adiacente al suo obiettivo. Vediamo quest'altra situazione, qua abbiamo un veicolo, il veicolo non può sicuramente vedere questo obiettivo perché c'è sempre l'ostacolo di mezzo e non può vedere questo obiettivo perché questo esagono è libero, ma questo esagono è bloccato dal posto di blocco, quindi la linea passerebbe proprio qui, nel bordo in comune dei due esagoni, ma siccome uno dei due ha un blocco alla linea di vista, automaticamente la linea di vista è bloccata. Una cosa importante è che la linea di vista, la loss qui in questo gioco è semplificata, quindi non è come molti giochi a livello tattico dove devi vedere all'interno dell'esagono se c'è il singolo elemento che blocca la loss o no, il singolo pezzo di muretto o il singolo albero. Se l'esagono blocca, tutto l'esagono è considerato bloccare la loss, quindi se la loss passa per qualsiasi parte dell'esagono che blocca è bloccata, ok? Quindi basta che tocchi l'esagono che la blocca per bloccare effettivamente la loss. L'ultimo caso che ho preparato qui è il caso in cui unità, in questo caso un fante, è su una collina, quindi su un livello 2. Questa è una collina, lo possiamo vedere dal rombetto che è al centro. Quindi questo mi indica che è un livello 2 e quest'unità ha potenzialmente due obiettivi di fronte a sé. Questo e questo. Allora, il primo obiettivo, questo qui, sicuramente riesci a vederlo, perché ha un esagono libero e fra l'altro è anche in una posizione più in alto rispetto al suo obiettivo, quindi vede ancora meglio, e quindi sicuramente potrebbe spararli. Per quanto riguarda invece quest'altro obiettivo, vediamo una situazione un po' più complessa, perché io sto a livello 2, io che sparo. Ho però il posto di blocco, che è come se fosse un livello 1. Sta su un livello 0, ma è come se alzasse di un livello il terreno a livello 0. Quest'unità si trova a un livello 1. Quindi qua ho livello 2. Livello 1, livello 2. Quindi si verifica la situazione che è qui sul player aid, che sarebbe questa qui, la regola 4. La loss fra due esagoni non è mai bloccata se l'elevazione dell'esagono che è in mezzo è uguale o più bassa di quella di entrambi. In questo caso, l'esagono in mezzo, che sarebbe questo, è più basso dell'esagono che si trova chi spara ed è uguale a quella dell'esagono dove è l'obiettivo. Ci suggerisco sempre comunque di consultare il player aid, perché ha tantissime informazioni utili ed è fatto molto bene. Sempre nel player aid voi potete vedere ogni tipologia di terreno su che livello sta. Vedete qui, per esempio, acqua, livello 0. Terreno di copertura, livello 1. Questo è terreno rialzato, quindi collina, montagna, livello 2. E fortificazione livello 1. Terreno libero, 0. Quindi è molto utile anche da questo punto di vista. Allora, abbiamo visto la prima cosa da controllare prima di effettuare un combattimento a distanza, quindi prima di sparare. Cioè, la linea di vista deve assicurarmi di poter vedere l'obiettivo a quale sparo. La seconda cosa fondamentale che dovrò fare è controllare che la mia arma, ovviamente, riesca a raggiungere l'obiettivo, quindi che l'obiettivo sia nel raggio d'azione della mia arma. Ricordatevi sempre che nella maggior parte dei casi io posso scegliere con quale arma sparare, cioè se sparare con le armi leggeri, in questo caso, quindi, vedete, questa colonna a sinistra o con la colonna a destra, che sono le armi pesanti. Quindi, una volta che ho scelto quale delle due tipologie di armi usare e una volta che, ovviamente, mi sono assicurato di avere l'obiettivo in vista è nel raggio d'azione dell'unità e il raggio d'azione è dato dal secondo numerino in ognuna delle due colonne, quindi in questo caso, per esempio, sarebbe due esagoni per le armi leggere, dieci esagoni per quelle pesanti. pesanti, quindi una volta che io ho l'obiettivo in vista nella raggio d'azione dell'arma che ho scelto selezionato pago gli action point, i punti azione che mi servono per autorizzare quell'arma. In questo caso, se volessi usare l'arma pesante, per esempio, contro questo corazzato americano, pagherei 7. quindi pago i miei 7 AP facciamo conto che io sia qui quindi sono ancora il giocatore attivo pago i miei 7 AP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado a 30 finisco l'azione e vedo il risultato del mio combattimento dopodiché vedete che toccherà all'altro giocatore, al giocatore blu perché io l'ho superato sull'action track quindi pago la mia azione e controllo che tipo di dato devo tirare in questo caso facciamo conto che io appunto abbia deciso di utilizzare le armi pesanti contro il corazzato dovrò usare come colore l'azzurro come colore base perché poi questo dato può essere modificato da tanti modificatori che possono essere il terreno possono essere la difesa intrinseca dell'unità per esempio se io sparo questo corazzato questo essendo un corazzato avrà una difesa intrinseca che è questo numero dello scudetto molto forte 4, 4 significa che io parto da un dato azzurro che è un dato molto buono però a causa della difesa intrinseca del corazzato devo spostarmi a sinistra sulla console dei dadi di 4 posizioni quindi se io vado sulla console dei dadi vedrete che il dato azzurro che è molto buono spostandomi di 4 1, 2, 3, 4 diventa grigio quindi che è molto meno efficace quindi una volta che io so quale dato tirare diciamo che in questo caso sparo al corazzato quindi userò il grigio il terreno è un terreno solamente senza nessun tipo di modificatore quindi l'unico modificatore che avrò sarà questo della difesa intrinseca tiro il mio dato ecco qui il risultato che devo controllare è il risultato relativo a combattimento a fuoco che è diciamo l'icona questa diciamo in alto a destra di solito è un po' più grandicella dell'altra in questo caso ho un risultato di soppressione che poi vedremo cosa significa l'altro risultato che ho in basso a sinistra è relativo ai test quindi non devo usarlo quando sparo quando faccio un combattimento a fuoco normale viene usato nell'assalto oppure per per utilizzare alcune azioni per esempio per sminare eccetera quindi ricapitolando se io devo utilizzare il combattimento a fuoco quindi sparare un obiettivo devo assicurarmi che sia nella loss linea di vista quindi devo poterlo vedere che sia nel raggio d'azione dell'arma che io scelgo arma leggera o arma pesante non fa differenza deve essere sempre comunque nella raggio d'azione della mia arma pago il relativo costo in api dopodichè tiro il dado e il colore del dado mi viene fornito dal dal secondo numero nella colonnina di sinistra o di destra secondo l'arma che ho scelto tiro il dado il colore fornito è quello del dado base quindi potrebbe cambiare il dado a seconda di eventuali modificatori come abbiamo visto potrebbe essere la difesa intrinseca ma ce ne sono tanti altri e poi ovviamente se c'è un risultato lo applico ora vediamo invece l'altra modalità di combattimento che è l'assalto per fare l'assalto io utilizzerò come risultati di dadi il simbolino che è in basso a sinistra per esempio questo o questo perché è un test quindi per fare l'assalto prima di tutto io devo essere adiacente all'obiettivo che voglio assaltare per farlo o sono già adiacente come in questo caso oppure semplicemente spendo qualche api per avvicinarmi dopodichè se ho abbastanza api provo ad assaltare a vedere cosa succede l'assalto per l'assalto la loss non conta e non conta il raggio delle armi e devo però in questo caso fare attenzione perché se l'obiettivo che voglio assaltare è una fanteria dovrò per forza utilizzare la colonna di sinistra con le larmi leggere se l'obiettivo che sto per assaltare è un veicolo dovrò per forza utilizzare la colonna di destra che è delle armi pesanti vediamo in pratica come si svolge facciamo finta che io adesso voglia assaltare questa unità in regolare con questa unità americana di fronte americani prima di tutto mi do avvicinare perché sono troppo lontano devo essere adiacente poi devo verificare che l'unità che vuole fare l'assalto sia in buone condizioni morali cioè non abbia nessun segnalino di morale scosso o soppresso che sarebbe questo segnalino qua che si è rigirato diventa soppresso cioè scosso se non ho nessuno di questi due tipi di segnalini la minorità è moralmente integra quindi ha un buon morale e può effettuare l'assalto in questo caso l'unità non ha nessun segnalino né di soppresso né di scosso e quindi può effettuare l'assalto pago un AP vado sulla mia action track ne ho in abbondanza quindi pago il mio AP a questo punto per poter effettuare l'assalto devo pagare il costo dell'arma che sto utilizzando in questo caso attacco la fanteria quindi utilizzerò la colonna di sinistra e vedo che il costo per utilizzare queste armi leggeri in questo caso è di 6 quindi pago i miei 6 AP per poter fare l'assalto 1,2,3,4,5,6 vedete che farò questo assalto dopodiché diventerò il giocatore inattivo il mio avversario dovrà muovere o fare le azioni che vorrà fare perché diventerà lui quello attivo essendo più indietro rispetto a me il suo cubetto più indietro rispetto al mio sull'action track quindi prova a fare l'assalto utilizzo ovviamente il colore delle armi leggeri in questo caso che sarà di base che sarà il rosso quindi è un colore molto alto quali quali tipi di modificatori ci possono essere nell'assalto per quanto riguarda i modificatori nell'assalto fondamentalmente vale il terreno dell'obiettivo che sto assaltando e poi eventuali danni fisici che io potrei avere come vedremo dopo i danni fisici tolgono nano modificatore negativo in tutto quello che faccio quindi anche nel caso dell'assalto se avesse un danno fisico cioè un segnellino di questo tipo nell'unità assaltante avrei un modificatore negativo non è questo il caso e quindi diciamo avrei soltanto un modificatore negativo per me che assalto dell'esagono dove si trova l'obiettivo che è un esagono di copertura quindi avrei un meno uno al dato quindi in questo caso l'unità che assalta da rosso utilizzerebbe invece il dato che sta in una posizione a sinistra che è il giallo quindi io tirerei il mio dato giallo il risultato fa fede essendo un assalto quindi un test fa fede l'iconcina che io avrò qui a basso a sinistra del del dato che in questo caso è un'icona di medaglia che è un ottimo risultato vado a vedere sul mio player aid che cosa significa vado a cerco assalto eccolo qua assalto qui ho riferimento alla pagina in cui nel manuale dove si parla dell'assalto e ho i risultati possibili vado a vedere la medaglia eccola qui quindi è un grande successo che significa che le unità che si difendono sono eliminate e l'unità che ha assaltato può avanzare di un esagono quindi in questo caso io elimino l'unità che difendeva e avanzo di un esagono nell'esagono che ho assaltato ovviamente i risultati possono essere vari può non succedere nulla può essere addirittura negativo per me questo poi dipende dalla situazione voi fate sempre riferimento al player aid parliamo ora di una cosa molto importante è che la tipologia di danni che le unità possono subire durante il gioco ci sono fondamentalmente due tipologie di danno un danno di tipo morale e un danno di tipo fisico qui potete vedere i due segnalini che vengono usati per indicare queste due tipologie di danno differenti a sinistra abbiamo un segnalino che indica il danno al morale e a destra il segnalino che indica il danno fisico entrambi i segnalini hanno due facce per indicare due livelli diversi di gravità del danno che l'unità ha subito quindi abbiamo nel caso del segnalino di danno al morale questo a sinistra abbiamo una prima faccia quindi un primo livello di danno al morale che è il cosiddetto scosso il livello scosso se io giro la pedina avrò il secondo livello di danno morale quindi più grave che è il livello cosiddetto soppresso per quanto riguarda gli danni fisici abbiamo anche qui un segnalino che indica un primo livello di danno fisico che fra l'altro è indicato potete vedere dal numero 1 e dalla singola goccia di sangue ma se io giro questa pedina questo segnalino ho il secondo livello di danno fisico che è indicato appunto dal numero 2 e da 2 gocce di sangue una delle differenze principali fra i due danni le due tipologie di danno quello morale e quello fisico è che mentre io posso durante il gioco cercare di recuperare quello morale non posso mai recuperare quello fisico ma vediamo in pratica come funziona ogni qualvolta una mia unità subisce un danno morale o fisico ovviamente io devo applicare il segnalino equivalente di danno fisico morale e del livello corretto quindi se è un livello di danno morale in questo caso metterò questo segnalino se è due livelli quest'altro se è danno fisico di un livello metterò questo segnalino se è di due livelli userò l'altra l'altra faccia del segnalino una cosa importante come vi dicevo una differenza importante è che il danno morale si può recuperare durante il gioco mentre il danno fisico no ma come si fa a recuperare il danno morale io ho due modi per cercare di recuperarlo uno diciamo che è automatico e l'altro invece che necessita di un test quindi devo provare a recuperarlo ma non è detto che io ce la faccia il primo caso il caso diciamo automatico si verifica ogni qual volta un turno finisce e ne inizia uno nuovo quando un turno finisce ci sono alcune attività che avvengono in automatico e recupero dei danni di morale una di queste che succede che quando tutti i cubetti delle fazioni in gioco sorpassano la casella 40 automaticamente scatta un nuovo turno io sposterò se non il turno al turno successivo e succedono una serie di cose una di queste è appunto il recupero in automatico di un livello di danno al morale di tutte le unità di tutte le fazioni in gioco quindi se io per esempio è l'inizio del nuovo turno io ho questa unità questa unità dei verdi degli irregolari che è attualmente soppressa poi ho un'altra che magari che magari è scossa poi ho un'unità degli americani che magari è in questa situazione qui ecco è soppressa che succede che tutte queste unità americane irregolari usufruiscono di questo automatico recupero automatico di un livello di morale quindi che significa che questa unità che ha due livelli di danno morale perché è soppressa diventerà automaticamente scossa quindi guadagna un livello questa unità che invece è attualmente scossa quindi ha un livello di danno recupera totalmente e ridiventa integra dal punto di vista morale questa unità americana che attualmente ha un livello di soppresso quindi due livelli di danno morale automaticamente ne recupera uno e diventerà semplicemente scossa per quanto riguarda invece il secondo modo per cercare di recuperare dei livelli di morale di un'unità che è scossa o è soppressa questo si può fare in qualsiasi momento durante il gioco facendo un test questo test non è gratuito ed essendo un test ovviamente non è detto che io ci riesca ma come funziona fondamentalmente il giocatore che cerca di recuperare la sua unità decide quanti AP vuole spendere per cercare di recuperarla perché quanti AP perché in base al numero di AP aumentano le possibilità che io recuperi quella unità per esempio facciamo diciamo che siamo più o meno a metà turno e l'americano quindi il cubetto blu vuole cercare di recuperare questa unità che correntemente è scossa quindi ha un livello di danno quindi vuole recuperarla durante il gioco deve decidere quanti AP vuole spendere per cercare di recuperarla l'americano correntemente ha 4 AP prima di sorpassare l'avversario diciamo che ovviamente se io vado alla console dei dati vedo qua c'è il costo degli AP tirerò il dato corrispondente se per esempio l'americano decide di spendere 3 AP tirerà il grigio per vedere se recupera l'unità o meno se decide invece di spendere di meno perché magari vuole fare altre cose utilizzerà soltanto un AP quindi tirerà il bianco o viceversa se vuole spendere 2 tirerà il rosa e così via quindi ovviamente la possibilità che io recupero l'unità è direttamente proporzionale al numero di AP che io spendo quindi più AP spendo e più è probabile che io quella unità la recuperi ora in questo caso i risultati che posso avere sono fissi cioè se io tirando facendo questo test ottengo come risultato medaglia recupero automaticamente l'unità indipendentemente dal livello di danno morale che ha sia che ne abbia due o che ne abbia uno di livello di danno morale recupera automaticamente quindi se a me mi uscisse in questo caso una medaglia se ad americano uscisse una medaglia automaticamente la sua unità recupererebbe totalmente questo sia nel caso che avesse un danno di morale come in questo caso sia che ne avesse due come in quest'altro quindi il risultato migliore che voi potete sperare di avere facendo un tentativo di recupero durante il gioco se invece vi uscisse al posto della medaglia vi uscisse o un singolo una singola icona di pollice all'insù o un'icona come questa con due pollici all'insù in quel caso riuscireste a recuperare un solo livello di danno al morale quindi tornando all'esempio di prima se questo americano avesse avesse un danno al morale e uscisse un pollice oppure due pollici all'insù recupererebbe il danno e diventerebbe di nuovo diciamo integro se invece ne avesse due di danni morali quindi avesse questo tipo di icona recupererebbe soltanto un livello quindi andrebbe a scosso e quindi recupererebbe soltanto un livello ma non diventerebbe totalmente integro dal punto di vista dei danni morali ogni altro risultato è nullo quindi ho speso il mio api ho cercato di recuperare la mia unità ma non sono riuscito ad avere nessun risultato abbiamo già accennato ai supporti che servono per dare vari tipi di supporto sul campo di battaglia alle unità per raggiungere il loro obiettivo adesso vediamo in pratica come funzionano nonostante alcune differenze sul loro utilizzo pratico il concetto di base è lo stesso cioè una volta che io voglio utilizzare un supporto di scenario poi mi diranno quali supporti io abbia a disposizione o meno decido di utilizzare un supporto per esempio diciamo che sono americano voglio usare un supporto di artilleria magari lo scenario mi dice che ho a disposizione questi 155 mm voglio usarlo quindi scelgo devo scegliere tutti i supporti tranne il cecchino hanno a disposizione due fattori quello di sinistra è relativo alle armi leggere quello di destra è relativo alle armi pesanti e a sinistra abbiamo il colore del dato base che dovrò utilizzare nel primo caso e a destra il colore del dato base che dovrò utilizzare nel secondo caso ricordatevi sempre che se sparo a veicoli dovrò obbligatoriamente usare il valore e il dato di destra se invece sparo a unità di fanteria posso decidere se usare quello di sinistra armi leggera o quello di destra armi pesanti diciamo che in questo caso io voglio utilizzare quello di sinistra può capitare fra l'altro anche il caso in cui i colori dei due teori di base e anche addirittura il costo sia uguale per esempio come in questo caso quindi non fa una grande differenza ma nel caso specifico invece c'è una differenza sia di colore che di costo quindi diciamo che io uso questo di sinistra di valore quindi le armi leggere pagherò i miei 7 AP sulla tabella 1,2,3,4,5,6,7 diventerò poi successivamente sarò il giocatore inattivo e toccherò il mio avversario ma completerò comunque la mia azione di supporto di artiglieria pagando quindi poi attaccando con il mio dado blu di base e quando io ho finito il mio attacco da parte del supporto metterò il supporto nella stessa casella occupata attualmente dal mio cubetto quindi in questo caso il cubetto blu che sarebbe l'americano questo supporto non sarà più disponibile fin quando il cubetto della fazione che l'ha utilizzato in questo caso l'americano non torni nuovamente il turno successivo quindi il turno 3 in questo caso non abbia fatto tutto il giro e torni di nuovo nella stessa casella occupata al supporto quindi da questo momento in poi il turno successivo potrò ritornare a utilizzare il mio supporto quindi posso usarlo adesso posso anche aspettare e usarlo successivamente l'importante è che il cubetto abbia superato ossia nello stesso esagono o l'abbia superato nello stesso o nella stessa casella o l'abbia superata del supporto ma vediamo come funziona in particolare l'artilleria perché fosse il caso un po' più complesso fra i supporti l'artilleria abbiamo detto come con tutti i supporti ovviamente è lo scenario che mi dice se ce l'ho o meno e che tipo di artilleria ho se è pesante da 155 mm o leggera più leggera da 81 mm cioè mortai facciamo poniamo il caso che io sia sempre il giocatore americano e abbia a disposizione un'artilleria pesante 155 mm quindi come faccio a sparare la prima cosa che devo fare è capire se l'obiettivo il mio obiettivo è nella loss cioè nella linea di vista di uno o qualsiasi delle unità mie in campo o meno per esempio poniamo il caso che io voglio sparare a questa unità di irregolari allora questa unità di irregolare in realtà è nascosta a tutte le unità americane sulla mappa non è visibile a nessuna di esse infatti se io vado a cercare di tracciare una loss una linea di vista all'obiettivo vedete che in questo caso va a incontrare un esagono di copertura quindi è bloccata anche nel caso di questo corazzato è bloccata è bloccata da due esagoni di copertura addirittura cioè da questo e da questo e in questo caso ancora peggio perché ho addirittura due boschi davanti quindi la loss sarà bloccata qui qui e qui e anche l'altra unità questa unità non sicuramente non la vede perché come vedete la loss passa da questo esagono che è di copertura quindi non non riesce a vedere quindi questa unità non è nella loss di nessuna delle minorità sul campo viceversa se volessi sparare a questa unità nemica questa unità nemica è vista da questa unità da questa unità non da questa perché c'è questo esagono di copertura in mezzo ma da ben due unità e quindi potrei sparare direttamente nel caso di fuoco diretto diciamo è semplice una volta che io ho verificato che l'obiettivo è nella loss nella line of sight di una qualsiasi delle minorità posso semplicemente procedere a sparare come si fa normalmente nel mio caso io scelgo di sparare con il valore di sinistra che è quello relativo alle armi leggere vi ricordo sempre che se sparo a veicoli sono obbligato a utilizzare il valore di destra che è quello relativo alle armi pesanti se sparo alla fanteria posso usare o quello a sinistra o quello a destra quindi o le armi leggero allarmi pesanti a mia scelta scelta il giocatore che sta sparando in questo caso io sto sparando la fanteria potrei sparare anche con il valore di destra usare il dato rosso il dato base rosso ma decido di usare quello di sinistra e quindi il dato base blu spendendo 7 ap quindi spendo i miei 7 ap 1,2,3,4,5,6,7 vado a 20 quindi questo significa che io completerò la mia azione ma dopo toccherà il mio avversario muovere sarà lui il giocatore attivo quindi spendo i miei ap dopodiché utilizzo la procedura normale di fuoco che è quella di di calcolare eventuali modificatori in questo caso c'è il modificatore dato dal terreno sicuramente che è la copertura comunque controllo tutti i modificatori del caso e tiro il mio dato modificato e vedo il risultato questo come un qualsiasi combattimento normale invece le cose si complicano nel caso in cui come in questo caso la mia unità non sia nella loss di nessuna unità mica in gioco in questo caso è comunque possibile cercare di colpirla però non è scontato come nel caso in cui fosse invece nella nella loss di una mia unità quindi nel caso in cui io riuscissi a vederla quindi è un fuoco indiretto e in questo caso il funzionamento è questo io ovviamente spendo sempre i miei 7 ap dopodiché prendo questo segnalino che è detto segnalino di dispersione lo metto nell'esagono oggetto del fuoco quindi l'esagono dove ho il mio obiettivo la mia unità che sto cercando di colpire con la freccetta che indica un qualsiasi qualsiasi lato di esagono questo non importa diciamo che io scelgo come lato questo e a quel punto tiro un dato da 6 vedo il risultato ho fatto 5 controllo il 5 su questo segnalino di dispersione a quale lato dell'esagono corrisponde corrisponde a questo lato qui quindi significa che io colpisco con l'arteglieria questo esagono dove ho messo il dado e non l'esagono obiettivo il risultato che io applico a uno di questi esagoni adiecenti dopo la dispersione si applica anche a a qualsiasi unità amica sia presente in quell'esagono quindi bisogna stare attenti a non usare l'artiglieria in modo indiretto quando ho unità amiche adiecenti all'obiettivo invece sarà un rischio di colpire anch'esse un'altra cosa che bisogna tenere presente è che questo è valido nel gioco in qualsiasi volt si verifichi la situazione in cui io sparo con un'arma pesante e e ho come risultato un kill cioè un teschio cioè questo risultato qui e sto sperando a un esagono di copertura quindi col pallino bianco al centro se io ho sparato con un'arma pesante e ho avuto quindi questo risultato di kill quindi quello più letale in assoluto mi devo ricordare di mettere un segnalino di macerie che è questo di macerie nell'esagono di copertura che ho colpito con il kill quindi applico regolarmente il risultato se in caso in cui ci fossero delle unità ovviamente nemiche dovrò eliminarle ma in più dovrò anche applicare questo questo segnalino di macerie e il segnalino di macerie praticamente è un ostacolo sia al movimento che alla loss quindi è un po' come se fosse un posto di blocco non ci posso passare ma non posso neanche tracciare una loss quindi non posso vedere al di là delle macerie quindi diciamo che io ho fatto il mio ho utilizzato la mia artiglieria ho determinato il risultato a questo punto il segnalino di artiglieria che ho utilizzato lo metterò nella casella che occupa attualmente il mio cubetto in questo caso il cubetto blu dell'americano quando potrò riutilizzarlo potrò riutilizzare il segnalino di supporto quando il mio cubetto in questo caso il cubetto blu sarà tornato dopo aver fatto il giro della tabella e quindi nel turno successivo sarà tornato a occupare la stessa casella dove è rimasto il mio segnalino in questo caso la casella 20 quindi da questo momento in poi potrò riutilizzare di nuovo il mio segnalino di supporto questo funziona funziona allo stesso modo con tutti gli altri tipi di supporto affrontiamo adesso alcuni argomenti che sono correlati ma che hanno bisogno magari di un ulteriore semplificazione rispetto alla regola che sono la regola quindi la ricognizione l'azione speciale di ricognizione lo sminamento il funzionamento delle mine e degli IED cioè dei dispositivi esplosivi improvvisati allora noi abbiamo visto che spesso nei scenari i segnalini di come li chiamiamo noi situazionali cioè che indicano la presenza di mine o di IED o di posti di blocco vengono posti sulla mappa dalla parte del punto interrotivo quindi del segnalino ignoto questo perché l'avversario non sa quello che c'è sotto potrebbe appunto esserci un dammi quindi un segnalino fasullo o potrebbe esserci effettivamente uno di questi elementi che possono mettere in pericolo le suonità in questo caso vedete io ho messo due segnalini di ignoto che sotto potrebbero celare dei pericoli in particolare in questo caso il primo segnalino presenta un IED che è un dispositivo esplosivo improvvisato e quest'altro delle vere e proprie mine vedete che l'esagonino con il colore in alto a sinistra vi dice praticamente quale colore puoi utilizzare nel caso in cui questi ordigni esplodano però tornando alla alla ricognizione se io voglio sapere cosa c'è sotto questi segnalini ho due modi un modo diciamo molto pratico brutale ma molto rischioso è quello semplicemente di passarci sopra cioè io muovo sopra e vedo quello che succede a quel punto una volta che muovo sopra il giocatore che ha posizionato questi segnalini è costretto a farmeli vedere quindi a farmi vedere cosa c'è sotto e se c'è un dummy c'è fasurlo un segnale fasurlo quindi non c'è realtà niente semplicemente lo elimina il gioco e io posso continuare a muovere a fare quello che volevo senza nessuna particolare conseguenza per la mia unità altrimenti se è presente una mina come in questo caso o anche un ied come in quest'altro l'unità che è entrata nell'esagono dovrà subire un attacco quindi da parte di una di questi due segnalini l'attacco come funziona come vi dicevo prima praticamente come se la mina o l'ied esplodendo attacchino sparino all'unità che è entrata nell'esagono utilizzando come dato base il dato viola quindi tiro il dato e faccio quello che faccio normalmente con qualsiasi attacco combattimento a fuoco vedo il risultato e lo applico dopodiché dovrò eliminare il segnino di mina o di ed e non potrò più usarlo per il gioco c'è però una seconda possibilità che è quella che normalmente si utilizza cioè non rischiare di passarci sopra facendo esplodere l'ordigno o la mina ma semplicemente facendo ricognizione c'è vedendo con cautela di scoprire cosa c'è all'interno di questo esacolo con questo pericolo generico ignoto come si fa devo avere una unità che sia dotata dell'unità dell'azione speciale ricognizione in questo caso dovrebbe essere questa esatto questa unità vedete che ha questa iconcina in fondo a sinistra che è l'iconcina dell'azione speciale ricognizione questo che significa che l'unità può cercare di capire di scoprire cosa c'è all'interno di un esagono che contenga un segnalino di ignoto col punto interrogativo come questi due per farlo devo essere adiacente al segnalino di ignoto che sto cercando di svelare oppure muovo adiacente se ho abbastanza P basta che muovo adiacente e poi ne spendo altri per vedere se riesco a capire cosa c'è sotto il segnalino oppure se parto già di 100 ancora meglio come diciamo in questo caso come si fa è un test quindi come tutti i test bisogna vedere il colore di base dell'iconcina in questo caso il giallo quindi il colore dato base sarà il dato giallo questo dato può avere dei modificatori per esempio se l'unità che sta cercando di capire cosa c'è sotto l'iconcina di ignoto il punto interrogativo fosse ferita fisicamente avesse questo segnalino applicherebbe un meno 2 quindi due spostamenti a sinistra nella console dei dati o se avesse semplicemente un danno un livello di danno fisico applicherebbe un malus di 1 uno spostamento a sinistra sulla console dei dati a parte detto questo insomma funziona appunto come un normale test quindi vedo l'eventuale risultato posso poi controllare il risultato sempre sulla mia sul mio ausilio giocatore quindi sul player aid da quest'altra parte qui ho vari test quindi vedo quello che mi interessa in questo caso sarebbe raccon quindi ricognizione e vedo i vari risultati che cosa che cosa mi portano detto questo non è impossibile per anche per unità che non abbiano questa azione speciale quindi questo iconcina particolare non è impossibile per le altre unità cercare di fare una ricognizione la differenza è che pagheranno sempre il costo delle armi leggere quindi per esempio se volessi farlo con questa unità pagherei sempre 6 ma invece di applicare colore rosso in questo caso applicherò fisso di qualsiasi unità si tratti il colore è grigio quindi il dato base è grigio quindi ovviamente tendenzialmente sono meno efficaci efficienti come unità per la ricognizione rispetto a un'unità come questa che invece lo sa fare cioè già l'azione speciale relativa per quanto riguarda lo sminamento invece ovviamente io posso cercare di sminare una volta che io ho scoperto che sotto questo segnale di ignoto c'è una mina o un IED posso cercare di sminare quindi di eliminarli senza però che questo arachidanno alla mia unità per farlo ho bisogno di personale specializzato quindi ho bisogno di ingegneri sono quelle unità di fanteria come questa che hanno hanno questa azione speciale quindi hanno questa specie di simbolo di nuovo il colore mi indicherà il tipo di dado che io dovrò utilizzare per vedere se riesco o meno nella mia azione sminamento e il costo è sempre quello delle armi leggere quindi in questo caso 6 quindi io pagherei 6 e andrei a controllare come dado base il dado rosso sempre che non ci siano ovviamente modificatori come nel caso abbiamo visto prima per esempio se l'unità che cerca di sminare fosse ferita allora in quel caso dovrei applicare ovviamente un malus di uno spostamento a sinistra sulla console dei dati se è un danno fisico oppure di uno spostamento a sinistra di due posizioni sulla console dei dati se fosse invece un danno fisico di secondo livello quindi due danni ma per il resto è appunto un test un test normale anche in questo caso i risultati possono essere vari vado sempre a vedere qui sulla mia tabella che cosa può succedere ecco qui clearing idmines quindi sminamento di mine o id e qui ho i vari risultati possibili abbiamo già accennato ai supporti che servono per dare vari tipi di supporto sul campo di battaglia alle unità per raggiungere il loro obiettivo adesso vediamo in pratica come funzionano nonostante alcune differenze sul loro utilizzo pratico il concetto di base è lo stesso cioè una volta che io voglio utilizzare un supporto di scenario poi mi diranno quali supporti io abbia a disposizione o meno decido di utilizzare un supporto per esempio diciamo che sono americano voglio usare un supporto di artilleria magari lo scenario mi dice che ho a disposizione questi 155 mm voglio usarlo quindi scelgo devo scegliere tutti i supporti tranne il cecchino hanno a disposizione due fattori quello di sinistra è relativo alle armi leggere quello di destra è relativo alle armi pesanti e a sinistra abbiamo il colore del dato base che dovrò utilizzare nel primo caso e a destra il colore del dato base che dovrò utilizzare nel secondo caso ricordatevi sempre che se sparo a veicoli dovrò obbligatoriamente usare il valore e il dato di destra se invece sparo a unità di fanteria posso decidere se usare quello di sinistra armi leggeri o quello di destra armi pesanti diciamo che in questo caso io voglio utilizzare quello di sinistra può capitare fra l'altro anche il caso in cui i colori dei due tei di base e anche addirittura il costo sia uguale per esempio come in questo caso quindi non fa una grande differenza ma nel caso specifico invece c'è una differenza sia di colore che di costo quindi diciamo che io uso questo di sinistra di valore quindi le armi leggere pagherò i miei 7 AP sulla tabella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diventerò poi successivamente sarò il giocatore inattivo e toccherò il mio avversario ma completerò comunque la mia azione di supporto di artiglieria pagando quindi poi attaccando con il mio dado blu di base e quando io ho finito il mio attacco da parte del supporto metterò il supporto nella stessa casella occupata attualmente dal mio cubetto quindi in questo caso il cubetto blu che sarebbe l'americano questo supporto non sarà più disponibile fin quando il cubetto della fazione che l'ha utilizzato in questo caso l'americano non torni nuovamente il turno successivo quindi il turno 3 in questo caso non abbia fatto tutto il giro e torni di nuovo nella stessa casella occupata al supporto quindi da questo momento in poi il turno successivo potrò ritornare a utilizzare il mio supporto quindi posso usarlo adesso o posso anche aspettare e usarlo successivamente l'importante è che il cubetto abbia superato ossia nello stesso esagono o lo abbia superato nello stesso o nella stessa casella o l'abbia superata del supporto ma vediamo come funziona in particolare l'artilleria perché è forse il caso un po' più complesso fra i supporti l'artilleria abbiamo detto come con tutti i supporti ovviamente è lo scenario che mi dice se ce l'ho o meno e che tipo di artilleria ho se è pesante da 155 mm o leggera più leggera da 81 mm cioè mortai poniamo il caso che io sia sempre il giocatore americano e abbia a disposizione un'artilleria pesante da 155 mm quindi come faccio a sparare la prima cosa che devo fare è capire se l'obiettivo il mio obiettivo è nella loss cioè nella linea di vista di una qualsiasi delle unità mie in campo o meno per esempio poniamo il caso che io voglio sparare a questa unità di irregolari allora questa unità di irregolari in realtà è nascosta a tutte le unità americane sulla mappa non è visibile a nessuna di esse infatti se io vado a cercare tracciare una loss una linea di vista all'obiettivo vedete che in questo caso va a incontrare un esagono di copertura quindi è bloccata anche nel caso di questo corazzato è bloccata è bloccata da due esagoni di copertura addirittura cioè da questo e da questo e in questo caso ancora peggio perché ho addirittura due boschi davanti quindi la loss sarà bloccata qui qui e qui e anche l'altra unità questa unità sicuramente non la vede perché come vedete la loss passa da questo esagono che è di copertura quindi non riesce a vedere quindi questa unità non è nella loss di nessuna delle minorità sul campo viceversa se volessi sparare a questa unità nemica questa unità nemica è vista da questa unità da questa unità non da questa perché c'è questo esagono di copertura in mezzo ma da ben due unità e quindi potrei sparare direttamente nel caso di fuoco diretto diciamo è semplice una volta che io ho verificato che l'obiettivo è nella loss nella line of sight di una qualsiasi delle minorità posso semplicemente procedere a sparare come si fa normalmente nel mio caso io scelgo di sparare con il valore di sinistra che è quello relativo alle armi leggere vi ricordo sempre che se sparo a veicoli sono obbligato a utilizzare il valore di destra che è quello relativo alle armi pesanti se sparo la fanteria posso usare o quello a sinistra o quello a destra quindi o le armi leggero allarmi pesanti a mia scelta scelta il giocatore che sta sparando in questo caso io sto sparando la fanteria potrei sparare anche con il valore di destra usare il dato rosso il dato base rosso ma decido di usare quello di sinistra e quindi il dato base blu spendendo 7 ap quindi spendo i miei 7 ap 1,2,3,4,5,6,7 vado a 20 quindi questo significa che io completerò la mia azione ma dopo toccherà il mio avversario muovere sarà lui il giocatore attivo quindi spendo i miei ap dopodiché utilizzo la procedura normale di fuoco che è quella di calcolare eventuali modificatori in questo caso c'è il modificatore dato dal terreno sicuramente che è la copertura comunque controllo tutti i modificatori del caso e tiro il mio dato modificato e vedo il risultato questo come un qualsiasi combattimento normale invece le cose si complicano nel caso in cui come in questo caso la mia unità non sia nella loss di nessuna unità mica in gioco in questo caso è comunque possibile cercare di colpirla però non è scontato come nel caso in cui fosse invece nella nella loss di una mia unità quindi nel caso in cui io riuscissi a vederla quindi è un fuoco indiretto e in questo caso il funzionamento è questo io ovviamente spendo sempre i miei 7 ap dopodiché prendo questo segnalino che è detto segnalino di dispersione lo metto nell'esagono oggetto del fuoco quindi l'esagono dove ho il mio obiettivo la mia unità che sto cercando di colpire con la freccetta che indica un qualsiasi qualsiasi lato di esagono questo non importa diciamo che io scelgo come lato questo e a quel punto tiro un dato da 6 vedo il risultato ho fatto 5 controllo il 5 su questo segnale di dispersione a quale lato dell'esagono corrisponde corrisponde a questo lato qui quindi significa che io colpisco con l'arteglieria questo esagono esagono dove ho messo il dato e non l'esagono obiettivo il risultato che io applico a uno di questi esagoni diecenti dopo la dispersione si applica anche a a qualsiasi unità amica sia presente in quell'esagono quindi bisogna stare attenti a non usare l'arteglieria in modo indiretto quando ho unità amiche adiacenti all'obiettivo se non rischio di colpire anche esse un'altra cosa che bisogna tenere presente è che questo è valido nel gioco in qualsiasi volta si in qualsiasi volta si verifichi la situazione in cui io sparo con un'arma pesante e e ho come risultato un kill cioè un teschio cioè questo risultato qui e sto sparando a un esagono di copertura quindi col pallino bianco al centro se io ho sparato con un'arma pesante e ho avuto quindi questo risultato di kill quindi quello più letale in assoluto mi devo ricordare di mettere un segnalino di macerie che è questo di macerie nell'esagono di copertura che ho colpito con il kill quindi applico regolarmente il risultato in caso in cui ci fossero delle unità ovviamente nemiche dovrò eliminarle ma in più dovrò anche applicare questo questo segnalino di macerie e il segnalino di macerie praticamente è un ostacolo sia al movimento che alla loss quindi un po' come se fosse un posto di blocco non ci posso passare ma non posso neanche tracciare una loss quindi non posso vedere al di là delle macerie quindi diciamo che io ho fatto il mio ho utilizzato la mia artiglieria ho determinato il risultato a questo punto il segnalino di artiglieria che ho utilizzato lo metterò nella casella che occupa attualmente il mio cubetto in questo caso il cubetto blu dell'americano quando potrò riutilizzarlo potrò riutilizzare il segnalino di supporto quando il mio cubetto in questo caso il cubetto blu sarà tornato dopo aver fatto il giro della tabella e quindi nel turno successivo sarà tornato a occupare la stessa casella dove è rimasto il mio segnalino in questo caso la casella 20 quindi da questo momento in poi potrò riutilizzare di nuovo il mio segnalino di supporto questo funziona al stesso modo con tutti gli altri tipi di supporto affrontiamo adesso alcuni argomenti che sono correlati ma che hanno bisogno magari di un ulteriore semplificazione rispetto alla regola che sono la recon quindi la ricognizione l'azione speciale ricognizione lo sminamento il funzionamento delle mine e degli IED cioè dei dispositivi esplosivi improvvisati allora abbiamo visto che spesso nei scenari i segnalini di come li chiamiamo noi situazionali cioè che indicano la presenza di mine o di IED o di posti di blocco vengono posti sulla mappa dalla parte del punto interruttivo quindi del segnalino ignoto questo perché l'avversario non sa quello che c'è sotto potrebbe appunto esserci un dammi quindi un segnalino fasullo o potrebbe esserci effettivamente uno di questi elementi che possono mettere in pericolo le sue unità in questo caso vedete io ho messo due segnalini di ignoto che sotto potrebbero celare dei pericoli in particolare in questo caso il primo segnalino presenta un IED che è un dispositivo esplosivo improvvisato e quest'altro delle vere e proprie mine vedete che l'esagonino con il colore in alto a sinistra vi dice praticamente quale colore puoi utilizzare nel caso in cui questi ordigni esplodano però tornando alla ricognizione se io voglio sapere cosa c'è sotto questi segnalini ho due modi un modo diciamo molto pratico brutale ma molto rischioso è quello semplicemente di passarci sopra cioè io muovo sopra e vedo quello che succede a quel punto una volta che muovo sopra il giocatore che ha posizionato questi segnalini è costretto a farmeli vedere quindi a farmi vedere cosa c'è sotto e se c'è un dammi cioè fasullo un segnale fasullo quindi non c'è realtà niente semplicemente lo elimina dal gioco e io posso continuare a muovere a fare quello che volevo senza nessuna particolare conseguenza per la mia unità altrimenti se è presente una mina come in questo caso o anche un IED come in quest'altro l'unità che è entrata nell'esagono dovrà subire un attacco quindi da parte di queste di uno di questi due di uno di questi due segnalini l'attacco come funziona come vi dicevo prima praticamente come se la mina o l'IED esplodendo attacchino sparino all'unità che è entrata nel loro sagono utilizzando come dato base il dato viola quindi tiro il dado e faccio quello che faccio normalmente con qualsiasi attacco combattimento a fuoco vedo il risultato e lo applico dopodiché dovrò eliminare il segnalino di mina o di IED e non potrò più usarlo per il resto del gioco c'è però una seconda possibilità che è quella che normalmente si utilizza cioè non rischiare di passarci sopra facendo esplodere l'ordigno o la mina ma semplicemente facendo ricognizione cioè vedendo con cautela di scoprire cosa c'è all'interno di questo esagono con questo pericolo generico ignoto come si fa devo avere una unità che sia dotata dell'unità dell'azione speciale ricognizione in questo caso dovrebbe essere ops dovrebbe essere questa esatto questa unità vedete che ha questa iconcina in fondo a sinistra che è l'iconcina dell'azione speciale ricognizione questo che significa che l'unità può cercare di capire di scoprire cosa c'è all'interno di un esagono che contenga un segnalino di ignoto col punto interrogativo come questi due per farlo devo essere adiacente al segnalino di ignoto che io sto cercando di svelare oppure muovo adiacente se ho abbastanza basta che muovo adiacente e poi ne spendo altri per vedere se riesco a capire cosa c'è sotto il segnere oppure se parto già adiacente ancora meglio come diciamo in questo caso come si fa è un test quindi come tutti i test bisogna vedere il colore di base dell'iconcina in questo caso il giallo quindi il colore dato base sarà il dato giallo e questo dato può avere dei modificatori per esempio se l'unità che sta cercando di capire cosa c'è sotto l'iconcina di ignoto il punto interrogativo fosse ferita fisicamente avesse questo segnalino applicherebbe un meno due quindi due spostamenti a sinistra nella console dei dati o se avesse semplicemente un danno un livello di danno fisico applicherebbe un malus di uno uno spostamento a sinistra sulla console dei dati a parte detto questo insomma funziona appunto come un normale test quindi vedo l'eventuale risultato posso poi controllare il risultato sempre sulla mia sul mio ausilio giocatore quindi sul player aid da quest'altra parte qui ho vari test quindi vedo quello che mi interessa in questo caso sarebbe raccon quindi ricognizione e vedo i vari risultati che cosa che cosa mi portano detto questo non è impossibile per anche per unità che non abbiano questa azione speciale quindi questo iconcina particolare non è impossibile per le altre unità cercare di fare una ricognizione la differenza è che pagheranno sempre il costo delle armi leggere quindi per esempio se volessi farlo con questa unità pagherai sempre 6 ma invece di applicare il colore rosso in questo caso applicherò fisso di qualsiasi unità si tratti il colore grigio quindi il dato base grigio quindi ovviamente tendenzialmente insomma sono meno efficaci efficienti come unità per la ricognizione rispetto a un'unità come questa che invece lo sa diciamo fare cioè già l'azione speciale relativa per quanto riguarda lo sminamento invece ovviamente io posso cercare di sminare una volta che io ho scoperto che sotto questo segnale di ignoto c'è una mina o un IED posso cercare di sminare quindi di eliminarli senza però che questo arachidanno alla mia unità per farlo ho bisogno di personale specializzato quindi ho bisogno di ingegneri ingegneri sono quelle unità di fanteria come questa che hanno hanno questa azione speciale quindi hanno questa specie di simbolo di nuovo il colore mi indicherà il tipo di dado che io dovrò utilizzare per vedere se riesco o meno nella mia azione sminamento e il costo è sempre quello delle armi leggere quindi in questo caso 6 quindi io pagherai 6 e andrei a controllare come dato base il dato rosso sempre che non ci siano ovviamente modificatori come nel caso abbiamo visto prima per esempio se l'unità che cerca di sminare fosse ferita allora in quel caso dovrei applicare ovviamente un malus di uno spostamento a sinistra sulla console dei dati se è un danno fisico oppure di uno spostamento a sinistra di due posizioni sulla console dei dati se fosse invece un danno fisico di secondo livello quindi due danni ma insomma per il resto è appunto un test un test normale anche in questo caso i risultati possono essere vari vado sempre a vedere qui sulla mia tabella che cosa può succedere ecco qui clearing ied mines quindi sminamento di mine o ied e qui ho i vari i vari risultati possibili unità elicottero le unità elicottero sono unità verticali quindi sono considerate la stregua un po' della fanteria sono unità normale non sono supporti quindi anche se hanno sulla parte posteriore ovviamente gli stessi valori e caratteristiche di unità di fanteria quindi con armi leggeri a sinistra armi pesanti pesanti a destra possono avere come in questo caso un'abilità speciale in questo caso l'abilità speciale di questo elicottero è quella che può trasportare anche un'unità di fanteria però hanno differenze con un'unità di fanteria alcune particolarità dovute al fatto che appunto sono velivoli quindi possono volare dobbiamo ricordarci che un elicottero ha fondamentalmente nel gioco due altitudini possibili diverse bassa altitudine cioè che significa che vola radente il suolo e usa in generale il territorio il terreno per nascondersi oppure alta quindi una posizione alta altitudine alta in cui è però più ovviamente vulnerabile perché più visibile al nemico quando è che si trova in posizione bassa ogni qualvolta si trovi su un esagono un esagono allo scoperto come questo quindi libero oppure su un esagono di acqua quindi su un esagono di fiume un esagono di mare in tutte le altre situazioni quindi sia che si trovi su esagoni di collina come in questo caso o che si trovi su esagoni di copertura come in questo caso l'elicottero è considerato essere in posizione alta quindi ha una certa altitudine altezza dal terreno che lo rende visibile sempre e comunque a tutti e ovviamente vulnerabili alle armi anti-aeree o anti-elicottero parlando di armi un'altra caratteristica da ricordarsi riguardo le due differenti altitudini che possono occupare elicotteri è che quando l'elicottero è a un'altitudine bassa quindi su un terreno come questo che sia appunto allo scoperto o su un terreno di tipo fiume o mare si applicano tutte quante le regole relative alla loss quindi effettivamente per poterlo vedere quindi eventualmente spararli devo seguire le normali regole di loss quindi se ci sono ostacoli in mezzo che bloccano la loss non posso più vedere quindi non posso più sparare a questo elicottero viceversa se sto in un'altitudine alta sono sempre comunque visibile e devo soltanto accertarmi che il tipo di arma che utilizzo sia compatibile con quel tipo di unità cioè elicottero e con quel tipo di altitudine facciamo un esempio qua per esempio io ho messo delle tre tipologie di unità la prima unità è un'unità normalissima che non ha particolari capacità anti-aeree o anti-elicottero la seconda è un'unità invece che ha capacità anti-aeree e quindi anti-elicottero che è un'unità SAM e l'ho capito dal rombo questa sorta di rombo che si trova sul costo dell'armi pesanti in termini di AP che mi indica in questo punto un'unità SAM e che quindi questa arma pesante solo relativa all'utilizzo anti-elicottero o anti-aereo ma non posso usarla contro cararmati per esempio e la terza tipo di unità è questa unità qua che è una normale unità che però ha un'abilità speciale lo vedete dal rombo rovesciato l'abilità speciale qual è? che può sparare contro contro l'elicotteri quindi è un'unità che ha capacità anti-elicotteri solo contro l'elicotteri non contro gli aeri quindi potrò usare le armi pesanti di questa unità anche contro l'elicotteri quindi sia contro l'elicotteri che contro veicoli veicoli di terra qual è la differenza la differenza è che mentre se l'elicotteri che sto cercando di sparare si trova a altitudine bassa quindi su un esagono allo scoperto su un esagono di acqua io posso cercare di sparare con tutte e tre questi tipi di di unità sia con unità normale che con unità dotata di SAM antiaerea sì sia con unità dotata di abilità speciale antielicottero se viceversa l'elicottero si trova in alto quindi a un'altezza elevata in posizione alta rispetto al suolo potrò sparare soltanto con unità che abbiano o che siano SAM quindi antiaerea oppure che abbiano l'abilità speciale antielicottero e non con unità normali unità normali ho dimenticato di dirlo quando sparano agli elicotteri usano le armi leggere non usano le armi pesanti però sempre e solo se vedono l'elicottero quindi l'elicottero nella loro loss e nel loro raggio ovviamente e se è a bassa quota quindi è a altezza bassa quindi in questo caso se queste fossero le posizioni dell'unità con l'elicottero dietro dietro esagoni di collina nessuna di queste unità potrebbe spararli perché hanno tutte e tre la collina davanti che è un ostacolo essendo l'elicottero basso si applicano tutte le regole della loss e quindi è come se fosse un'unità di fanteria e ci sono questi tre esagoni che sono di livello 2 e quindi non riesco a vedere l'elicottero non riesco a sparare viceversa se fosse qui in un esagono allo scoperto sarebbe in posizione bassa quindi livello 0 e mentre la posizione alta dell'elicottero è considerata livello 2 e quindi potrei sparare con tutti e tre fermo restando che devo controllare il raggio quindi in questo caso io la vedo ma non posso sparargli perché il raggio di 2 questa sta a 4 quindi non potrei sparargli mentre potrei sparargli con questa sicuramente che ha un raggio molto ampio e con questa controlliamo 1 2 3 4 5 6 sì anche questa è all'interno del raggio quindi potrebbe sparare anche questa vi ricordo inoltre che gli elicotteri non possono essere assaltati e per il resto si utilizzano tutti i classici modificatori di difesa intrinseca e anche di ovviamente di danno eventualmente fisico o morale per quanto riguarda per quanto riguarda invece gli aerei ovvero i supporti che fanno cassa qui prendiamo il nostro aereo l'aereo se non supporto funziona come tutti i supporti quindi io pago il costo scelgo innanzitutto se utilizzare i valori di sinistra o di destra armi leggeri o armi pesanti una volta che ho deciso o che sono obbligato nel caso che si tratti di veicoli se gli obiettivo è un veicolo dove posso usare quello di destra comunque scelgo quale valore utilizzare pago il relativo costo in ap compio l'attacco dopodiché metto il il segnalino lì dove il cubetto della mia fazione in questo caso al 20 e poi potrò utilizzarlo il turno dopo quando di nuovo il cubetto avrà raggiunto la casella 20 o anche successivamente volendo in pratica come funziona è abbastanza banale io una volta che ho pagato il mio costo in ap metto sulla mappa il mio segnalino di aereo sul mio obiettivo facciamo conto che io voglia attaccare ecco questo corazzato questa tecnica metto il segnalino faccio un normale attacco facendo riferimento al colore base del dado rosso se usassi quella leggera ma in questo caso sono costretto a usare quelle pesanti perché sto attaccando un veicolo quindi nero quindi insomma un dado molto molto letale quello più letale in assoluto però devo fare attenzione a una cosa potrebbero esserci nello scenario delle unità che posseggono delle capacità anti-aeree quindi SAM come per esempio questa unità qui che hanno sempre questo rombo sul costo in ap delle unità pesanti questo mi indica che questa unità SAM può sparare agli aerei non conta in questo caso la loss può sparare sempre e comunque però c'è una differenza importante nel caso in cui l'unità SAM fosse in overwatch quindi avesse il cubetto rosso che mi indica che l'unità può sparare anche quando non appartiene alla fazione che ha l'iniziativa quindi se avesse questo cubetto rosso se fosse in overwatch io potrei sparare all'aereo prima che l'aereo cerchi di colpire il suo bersaglio quindi faccio un normale attacco controllo controllo il raggio la loss non c'è bisogno del controllo pago i miei 6 AP e faccio un normale attacco e vedo il risultato l'unità aeree possono a differenza di molti altri supporti subire danni sia fisici che morali nel caso di danno morale appena io ho un primo livello di danno quindi se divento scosso così abortisco la missione quindi vado direttamente ritorno sulla tabella sull'action track sulla stessa casella dove c'è il mio cubetto e quindi praticamente l'azione è abortita è fallita e torno indietro con il mio ovviamente segnalino di danno che poi verrà recuperato automaticamente a fine turno come si fa con le altre unità di fanteria o curazzati normali se ho un danno o due danni posso continuare la missione ovviamente avrò un malus danni fisici intendo avrò un malus quando poi dovrò usare il mio dado nero non sarà più nero ma sarà un spostato di uno o due posizioni sulla console dei dati a sinistra però potrò continuare verso il mio obiettivo il mio obiettivo era questa tecnica quindi farò il mio attacco normale e applicherò i danni quando ho risolto il mio attacco e sto per tornare alla base se ci sono unità SAM quindi anti-aerei che non erano in World Watch non avevano il cubetto rosso ma sono comunque SAM quindi possono comunque sparare agli aerei queste possono volendo sparare pagando ovviamente relativo costo in AP possono sparare all'aereo sperando di colpirlo o di fare qualche danno questa è l'unica particolarità che riguarda il supporto aereo rispetto agli altri quindi quello di usare SAM per danneggiarlo prima che raggiunga l'obiettivo o magari fargli abortire la missione oppure per danneggiarlo dopo per quanto riguarda l'altra unità un po' particolare un'unità supporto un po' particolare è quello dei cecchini qua abbiamo un cecchino italiano per esempio vedete che i cecchini hanno soltanto un valore non hanno quello delle armi pesanti ovviamente qui abbiamo il costo in AP 4 AP per utilizzarlo qui abbiamo il raggio questo è il simbolo di infinito perché una particolarità del cecchino che può sparare su tutta la mappa non ha problemi di raggio né problemi di raggio né problemi di loss quindi è vero che il cecchino normalmente non ha un dado diciamo molto alto molto efficace non è molto forte però ha dalla sua il fatto che ha loss non ha la loss quindi non deve controllare la loss quindi vede sempre il suo obiettivo che non ha problemi di raggio quindi può colpire su tutta la mappa indifferentemente dalla distanza dal suo obiettivo e un altro vantaggio è che non si applicano i modificatori di difesa intrinseca dell'obiettivo né di difesa del terreno quindi fondamentalmente il colore del dado di base del cecchino rimane modificato non è mai modificato rimane sempre quello quindi in questo caso il cecchino italiano sparerebbe sempre con il colore verde non ha non ha possibili malus in questo senso è possibile mettere anche i cecchini in overwatch sempre spendendo un punto una P e mettendo il cubetto rosso questo cosa gli consente di fare consente al cecchino per esempio di di fare un fuoco di diciamo contro cecchino cioè se ci fosse un cecchino avversario e se il cecchino avversario durante la sua fase la sua attivazione volesse sparare a un nemico il cecchino in questo caso italiano essendo il nuovo watch potrebbe sparare prima a lui e cercare di inibire quindi il fuoco del cecchino avversario cercando di colpirlo di eventualmente di ferirlo in qualche modo fisicamente o moralmente per il resto il cecchino funziona come supporti normali quindi un altro utilizzato io lo metterò sempre sulla casella nel action track insieme al cubetto della fazione che lo possiede e sarà disponibile dopo un turno quando il cubetto di quella fazione tornerà sulla stessa casella dove è rimasto il cecchino una particolarità del cecchino come supporto e che da un lato ha il simbolo dell'ignoto perché in alcuni scenari potrebbe essere appunto piazzato come pedina come segnalino ignoto che non non si sa cosa ci sia sotto e con questo credo e spero di aver toccato un po' tutti i punti salienti del regolamento e anche le cose un po' più spinose poi altre informazioni sulle varie abilità o azioni speciali potete controllare sul manuale sono abbastanza banali non dovrebbe esserci alcun problema e grazie a tutti grazie a tutti